ok salve a tutti bentornati alla campagna di tre sovrani parte 2 del combattimento contro niktarion il boss della chiusura dell'arco narrativo alti ideali ok se non avete recuperato le puntate precedenti perché non ha voglia di fare il punto perché prima registrava una cazziata ora sono per malosi offeso mi piace che anche questo tipo senza contesto sarà terribile ma più che altro tipo se non avete visto le puntate precedenti ma ancora stiamo facendo in live queste queste sono registrate perché state guardando ma sai cosa è che più attuale questo è stata registrata mesi fa e per ora pubblicata ora non voglio perdere il bussa e il gusto del pericolo no poi se capirò quello che sta succedendo pure no ma guarda tutti i fatti davanti non faremo per tutta questa avventura non farò mai norma dirò solo avete presente quello ha capito ma quell'altra cosa che aveva fatto una volta nell'episodio 3 è il contrario delle note c'è tipo dovreste ma dovremmo mettere gli asterischi ma non lo faremo ovviamente abbiamo un product placement qua che è tendenzialmente che nictarion è fighissimo da un'idea mia e se provate a prenderla vi spezzo le gambe questo è un product placement cioè nel senso no potete usarlo perché anche la tic commons come tutte le mie idee anche perché tanto c'è gente che le prende uguali senza chiedermi permesso e quindi siamo posto così ma non sono per nulla frustrato e nictarion è questo essere che divora gratuitamente cose e allora nictarion praticamente alla fine dell'ultima dell'ultima avventura dell'ultima sessione quella che sicuramente avrete visto praticamente nictarion si fonde con quella cosa là sì durante la fine dell'avventura durante il combattimento con nictarion ha evocato uno spirito protettore diciamo spirito protettore del venerdì del taco di siliasta cioè un demone il taco demone che è stato ti protegge dall'avere una cattiva gioinata quando uno scuoso ti muove il venerdì del taco e tipo non è che tipo non è che taco doni il taco demone non è che protegge il taco friday punisce chi lo rovina cioè è puramente vendetta la sua non è tutela alla fine l'antagonista principale di pumpkin head chi era il demone o l'ans ericsson che lo ha evocato è questa la vera domanda no cioè il vero nemico chi è cioè alla fine non siamo forse noi responsabili è il tipo che ha messo sotto il ragazzino cioè oserei dire che è il tipo che ha messo sotto il ragazzino da che ci penso è un dilemma etico che non affronteremo rispetto al venerdì del taco Rob sappilo soprattutto con se è un demone in grado di sfida in nove tipo cioè non ha lo sguardo di vendetta Rob è tipo satana comunque fatto sta che praticamente alla fine della battaglia con nictarno quella che i nostri eroi pensavano alla fine ma tanti ormai sono abituati che mettono le palle non mi affettavo niente niente no future praticamente nictario è scoppiato come un palloncino e hanno scoperto guarda un po' le creature non euclidee tendenzialmente hanno bisogno diciamo possono avere qualsiasi forma gli enfreghi loro in base al loro contenuto al loro non concetto diciamo perché nictario rappresenta il divorare tutto ma non è la fame è il divoramento non saprei come dirlo è l'atto di divorare senza nessun bisogno tra parentesi cioè è soltanto mangiare ma anche a livello concettuale l'entità non euclidee come si era già visto in quell'altro episodio quella è l'entità non euclidea che divorava i colori cioè solo che quella era una larva era l'equivalenza di una zecca nel loro livello di potere nel caso di nictarion cioè era anche forte però non era senziente non era capace di far tanto attaccava e sputazzava nictarion è un pochino più complesso ecco poi se l'hanno fatto fuori si è dissolto in questa melma si è buttata questa melma su dove c'era il portale del tacco demone è stato trascinato fuori dall'inferno e nictarion si è fuso adesso creando quindi il nictaco copyright su questo nome se ce lo usate per qualche cosa vi denunciamo pesantemente assolutamente 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 io ci tengo io ci tengo a ringraziarvi per la vostra pazienza dove nel mezzo di oh Sallax il drago viola rischia di essere ucciso e così via io ho messo un demonetaco e nessuno per ora si sta lamentando ve ne sono molto grato siamo anche registrati Rob quindi non c'è la chat in diretta che può darci gli stupidi anche perché boh cazzi vostri oh oh io poi lo con voi la chat si fotte ah no però è dorato non stai scherzando ma è splendido è il grande entusiasta del tacco demone io lo amo e voglio bene non si è capito che tipo non è che Siria Astra sia haha è la roba scema tutt'altro tutti noi riconosciamo la dignità e bellezza di Siria Astra ma Siria Astra è comunque dei tre regni dei tre soviani l'unico in cui puoi sperare in queste bellezze io sono un grande fan di queste stronzate ma nel senso buono del termine cioè a me divertono lo sapete ho creato i più rupi cioè questo qui è lo spirito nel Natale che fuma che viene a spaccairti le ginocchia si è rovinato il Natale a qualcuno ho fatto i figuri dove letteralmente vuoi picchiarti con qualsiasi cosa cioè nel senso tu veramente pensa come cazzo si chiama Christmas Carol quello con il vecchio è il Natale eccolo lì mi ricordo che nel primo c'è un'avventura dove puoi picchiarti con Babbo Natale esatto esatto e in senso tipo si tratta da tre fantasmi e mi mostrerai ciò che ho perso e che perderò no uno ti graffia la macchina l'altro ti spacca le pidenze e uno viene a spaccairti il naso a pugni buonanotte buonanotte scrivo il figlio di puttana e comunque dopo questo momento dove purtroppo scusate è iniziato a far palestra quindi esce questo maschio tossico ah eh sì capita adesso non è il testosterone è proprio così che funziona è così sì raga è così tanto guarda che questo pezzo di video ci fa fare duemila like dopo questa frase no io voglio quei like però io non lo so soldi che sono soldi algoritmo l'algoritmo l'algoritmo ragione ho bisogno di quei quattro centesimi mi servono ci servono quei quattro centesimi ci servono tutto ma prego scusami andiamo praticamente appare questo link e ora inizia la fase 2 yes dove cercherò di far fuori più chiudici possibili così Chris non può spammare a morte spirit guardian ti prometto che intanto ho usato molti slot alti quindi potrei castarlo di ottavo questo sì ma non lo farò speriamo che Dictario faccia il suo lavoro questo è quando Chris ha scoperto che si poteva usare tipo quell'incantesimo del reggio per spammare Fatina che castano confusione una cosa molto importante sulle evocazioni yes ok ho controllato le evocazioni agiscono dopo il round dopo il mostro ok sì ok questa è una cosa importante perché non ci avevo mai pensato ahah perché se voi cadete a terra e la vostra evocazione non cade a terra non sparisce per qualche motivo ad esempio un famiglio non sparirebbe ok sì voi praticamente quella può curarvi sì perché può può tirare fuori una porzione di cura e grevele in bocca e quant'altro o se siete paralizzati o se siete pietrificati o cose che non mi fanno perdere la condizione di concentrazione pietrificati perdissima vabbè la vostra il round dopo può intervenire per bloccare o per annullare quell'effetto se ha effetti particolari o cose del genere è solo paralizzato è solo paralizzato Asterion l'angelo di Arden si gira mi prende in spalla e corre via fa un culo tipo si ti tira un pugno per la faccia se si svegliasse ok detto questo sì sì prima del combattimento l'altra volta che abbiamo fatto serve una cazzina una sola perché non sappiamo come sta andando la guerra e per un po' non lo sapremo è buio molto buio una notte senza stelle forse anche perché i fumi in lontananza della guerra cominciano a coprire il cielo in una maniera in una maniera terribile qualche lampo spezza questa costante tenebra e siamo in un bosco in questo bosco molto grovigliato molto stretto molto pieno di rovi sentiamo un rumore di qualcosa che spezza questi rovi è un rumore di passo di corsa molto di corsa con una velocità che soltanto settimane di addestramento possa aver sentato il campione il pg buildato solo per la velocità di movimento vediamo questo elfo dei boschi che corre velocemente corre velocemente in mezzo al bosco con questa tracolla con attaccato questo piuru piu che è contentissimo penso che questo sia il piuru piuru più felice della storia all'avventura si è tipo lui sta vivendo un mondo incredibile la salda mia signore siamo quasi fatta siamo quasi arrivati alla strega ok finalmente sarà libero dalla sua maledizione dopo che si ferma appoggia la mano sull'auber fa la salda ah si non credo di poter fare quello che è necessario in che senso io dovrei ucciderla la strega per rompere la sua maledizione e non credo di di avere le forze per farlo la sua magnanimità è incredibile ma se non riuscirò a uccidere la strega lei rimarrà maledetto così ma lei è convinto di qualche fa sì è così è così alzuista è così generoso la salda e poi io mi 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 sento a disagio lasciarla in queste condizioni il suo popolo ha bisogno di lei è vero quindi che dovremmo fare la salda eh dice che dovremmo dirmi a gioci verso la strega oppure oppure tornare tornare a casa ho fame ah sì hai ragione la salda forse un buon posto ci aiuterà a riflettere sedersi qua a riposare un po' è due giorni che corro va bene la salda mi siederò un attimo per riposare sì ah lei baderà a me durante tutto questo tempo bisogna di di mangiare qualcosa e vedete che si appoggia con la schiena contro un albero scende no strusciando la schiena contro l'albero le gambe proprio per riposare farlo a saldere è così magnanimo lei vedete che tira fuori dalla saccoccia qualcosa probabilmente delle razioni qualcosa sì e sì fa quindi lei lei mastica qualcosa ma la stanchezza lo prende molto è un elfo quindi dovrebbe entrare il reverie ma l'affaticamento comunque pesa quindi entra anche se non si addormenta anche se dormerà solo quattro ore ne ha bisogno ha bisogno di riposo è tipo la sua meditazione di in comunione con la foresta ma è criollato nella sua meditazione è l'equivalente è l'equivalente elfico di solo cadere sul letto esatto appoggia la mano comunque va ingorgitato un pezzetto di qualcosa si appoggia sulla coscia e il piru piru uscende dal sacchetto prende la roba e inizia a mangiarla e poi si guarda intorno e comincia a correre nel bosco la prossima cazzina saranno le bizzarre avventure di Lord Saldar nel bosco della strega oh dio ma porca troia è condannato è condannata altro che resta un piru piru la specie più sopra più infestante nel creato fantastico più forte lo vediamo per allontanarsi nel buio vi ricordo che i piru piru hanno invisibilità stealth massimizzato e sono immuni a qualsiasi individuazione e divinazione quindi la strega dovrà arrivare si è stato la strega di cristallo quest'elfo è insolato nella mia foresta ma perché me ciao ah proprio la strega la classica strega ma di quelle che vedi che è pericolosa con questa veste nera coibina questo stolto è il forenza nel mio territorio cosa io sono saida ho fame ah chi sei tu ah si sei per caso venuto sei per caso un avventuriero venuto qua a uccidermi si allora dovrò combattere con te ma vedremo 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 cosa succederà torniamo nella nostra scena nel frattempo i fottuti semi dei che combattono i voli cosmici mentre qua succede qualcuno si sta picchiando con Cthulhu si ok signori tocca a voi io mi tengo pronto per le mie tirate randomiche si allora quasi quasi vorrei partire io perché così se io mi muovo tiro su Zalzax poi posso fare in modo che Zalzax si curi e cominci a muoversi da un'altra parte così da provare a a innescare un attimino questa piccola catena di cura e se funge vai quindi Eldon però oh dio aspetta un secondo c'era tutto quel fottuto trip del movimento no se entri nella sua zona digittata non è un problema ricordo si 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 stavo ragionando un attimino fammi vedere molto rapidamente allora per rendere la situazione con il png molto più chiara yes un attacco di nictario ne muoiono figo figo perché non tiriamo noi non tiriamo per la sopravvivenza però in teoria se venissero attaccati beccherebbero due slot si due slot eh se vuoi quando fai il tiro salvezza contro morte se tu vieni attaccato più vecchi due due verso la morte oh l'ho capito si scusami ero tipo quindi no scusate non un attacco due attacchi e muoiono va bene si ma tanto due attacchi come se li portasse cioè non faccio tirare si però è come se lui praticamente non rischiano di andarci in automatico cioè non rischiano di dover tirare ogni volta quindi non vediamo se ci vanno verso due attacchi muoiono però se lui non li caga per tre non è che devono tirare ogni volta si ma guarda tanto zarzax è l'unica che è morrente perché gli altri due avevano detto che con l'inversione di gravità e corpo sparato in giro gli altri due devo fare rivivify per forza loro quelli sono molti molti alla fine ti direi due attacchi comunque giusto per saperlo due attacchi cadono a terra domanda visto che si è trattato così zarzax per tirare la suf devo fare una cura o un rivivify conta come dici quella la la chierica life no lei conta come morente ok quindi una cura con lei la posso fare con un healing ward la metti in piedi allora effettivamente perché devo sempre ricordarmi che in teoria il mio movimento sarebbe limitato sempre per il terreno difficile no di stai tecnicamente nuotando faccio healing ward questo qui tanto per come messa gonfiare l'healing ward non mi conviene lo recupero deve occuparsene lei di quello scusate un'azione bonus senso 60 fit lo faccio tranquillamente un di 4 più 2 guarisce roll un di 4 più 2 1 guarisce di 4 punti salute dovrei poterlo aggiornare io fammi vedere fammi vedere ho detto roll 20 fammi vedere grazie ecco fatto e via questo ecco fatto e adesso con il mio movimento io faccio 30 feet quindi ne faccio in realtà 15 mi limiterò a muovermi in questo momento mi sto muovendo anzi potrei fare una cosa approfittandone vedendo se ce la faccio mi ho usato l'azione bonus invece di muovermi mi giro e sferro 4 attacchi contro le catene che tengono il drago se non sbaglio la CA 15 si CA 15 basta un attacco per tirarle via con la forza che avete ne avevi già tirato 2-2 se non sbaglio no 3 ne rimaneva una ok ah ok si perché mi ricordo che in base agli attacchi rendeva più facile un tiro suo l'ultima volta esatto 1 di 20 più per colpire io faccio più 14 si perché quel è 5 più 6 11 più 3 della spada in sé quindi tiro più 14 quindi in realtà mi basta non fare uno primo attacco preso ok spezzata quante ne restano aspetta ma mi sembra che hai liberato con questi no no con questo l'hai liberato c'erano 4 tu ne avevi rotte 3 in un turno e poi si è fatta la fase 2 e questa è la volta in cui l'hai liberato l'hai liberato perfetto perfetto allora la distanza ancora 3 attacchi la distanza è troppa per lanciare la mia spada ma non penso ma sono entro i 30 si infatti quindi Eldon prenderà il suo arco elfico incoccherà frecce e in maniera un pochino triste nell'acqua posso tirare con suo vantaggio per provare a sparargli oddio è vero allora è un arco più 1 quindi tiro più 12 ok chiedo scusa per i possibili numeri c'è quello di limitare al minimo ma sono un po' raffreddato a questo giro non ti preoccupare primo attacco di 3 14 questo è proprio il peggiore perché come Halfling almeno ah devo anche tirare con suo vantaggio per i di più ecco questo qui ho già fatto 2 non andrà peggio di così quindi se ti va bene il mio secondo attacco è 15 più 12 che penso abbia preso sono 27 e il terzo attacco sono 24 perfetto tirerò i danni sono abbastanza umili ma tutt'altro che schifosi 2 di questo è un icon lungo quindi è di 8 se non sto dicendo cazzate si infatti si 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 più 5 della destrezza due volte sono 10 più 2 dal più 1 in tutto io ho fatto 18 danni mentre Eldon estrae questo Aiko spara le frecce faticano a viaggiare in questa acqua non acqua però ok è capo io ho fatto il mio tuino vorrei prendere io dichiarerei che è il tuino della Chierica visto che alla fine dei vostri turni possono intervenire le azioni leggendarie vi ricordo assolutamente ma allo stesso tempo io sceglievo quella del tuino quindi banalmente dico finito il mio tuino scelgo che il tuino è la Chierica tu mi dici di no funziona objection era per dire che le azioni leggendarie allora perché ha anche liberato il drago quindi si triggera una cosa giusto ok voi liberate il drago che vedete che comunque è molto ferito e drenato si ok allora le le catene non lo tengono più intrappolato quindi ora può intervenire ok quindi lui ha un'azione leggendaria non ne ha tre perché è praticamente a pezzi certo però con la situazione leggendaria può fare delle cose che non farebbe nel senso un caster normale una di queste è lanciarvi addosso a tutti il freedom of movement quindi ora non avete più nessuno svantaggio al tiro per colpire avete tutti gli effetti di un freedom of movement addosso grazie a dio tra l'altro c'è freedom of movement io c'ho già haste quindi a quanto mi porta la velocità fammi vedere quanta di me cioè te la rende sì sì infatti devo ricordarmi quant'è la velocità con haste haste ti raddoppia la tua velocità raddoppia freedom of movement mi sa che semplicemente ti impedisce di pay allora non vi considera l'effetto l'effetto del disegno difficile la vostra velocità non può essere ridotta non potete essere paralizzati o restrained ok figo e poi usare 5 feet di movimento per scappare automaticamente da restrizioni non magiche e non vi dà nessuna penalità nel combattere sott'acqua perfetto quindi vado a combattere a pieno dai però solo voi tre i chiarici non ce l'hanno ok va bene un buon inizio la chiarica può agire o deve fare qualcosa a nictarion nictarion vai cosa capita allora lui praticamente usa la sua azione leggendaria per fare quello che gli ha dato accesso del capo demone oh boy allora una volta al giorno allora ok tiro un dado 4 e mi è andata poco male allora Rob domanda nictaco ora sta evocando delle creature degli inferi ok nella famiglia ovviamente abbiamo deciso che in questo contesto il taco demone era legato agli ugolot visto che può cambiare volta in volta e quindi io mi sono permesso di attingere all'evocazione dei demoni degli ugolot ok quindi lui evocherà delle cose degli ugolot ed evoca 4 nictalot ora i nictalot praticamente sono esseri schifosi che hanno teletrasporto e altri effetti che non vi sto a dire perché sono mica problemi miei e assomigliano te lo metto su discord oh boy così almeno mi dici non è che siano molto fantasiosi agli ugolot non sono mai stati quella roba divertente sono molto semplici il demone il demone enormi no cioè nel senso però a parte gli arcanalot che sono proprio belli o gli ultralot però insomma il nictalot è abbastanza molto blando no ok lo vedi sono quelli grossi ok come appare oddio sono evocati da diciamo che derivano dal non so come dal buffet del tacco demone d'attacco da oddio non ho idea di che cosa potrebbero essere una mano ragazzi sono piccoli nachos con il nacho cheese cos'è? di ciotti stavo per dire secondo me non è che sono ah sono nachos simili sono questi mostri infernali sembrano quasi oserei dire che sono quasi questi grossi uomini luceritola hai presente quegli infernali che sono legati ai draghi tipo di abisciarti una cosa simile però tipo le loro squame sono di questo dorato che li fanno sempre a we tipo sono questi queste scaglie triangolari dorate che li fanno sempre a we i nachos i nachos i nacholot quindi sono i nacholot i nacholot è canon adesso abbiamo tutti contribuito con qualcosa sì 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 il risultato è poesia solo fammi vedere se ho un po' io provo a fare uno sketch ma sì quindi tipo non sono tipo non è vegetale non è cibo con i piedini che cammina sono questi grossi mostroni ma le loro scaglie sempre sono fatte di male un po' un po' grassocci no sai cosa sono non sono uomini luceitora sono questi grossi uomini rospo ok perfetto siamo questo livello ormai no ok e allora i nachos t'appai no tu non li avrei mai visti probabilmente mi hai sentito parlare ma non li avrei mai sono nelle più oscure leggende dei goblin oh ok vedete che praticamente la situazione è finita vi dico dove li mette ok aspetta no perché voglio mettere perché tanto vabbè quindi abbiamo i nachelot vedi 40 anni ragazzi eh oh wow è un gioco serbio eh è una cosa seria il teatro della mente ragazzi ricordiamo che ho letteralmente ordinato dei panini via posta quindi cioè è vero è vero questa è la mia vita questa è la mia vita che detta fuori contesto è così strano è incredibile cioè ragazzi io amo il 2023 cioè è un anno così bislacco sì tipo cosa hai fatto Nicola ho ordinato dei panini via posta sì allora devo trovare un film adesso arrivo intanto voi intanto Chris dimmi cosa vuoi fare perché tanto sto vedendo un attimino perché sto facendo un paio di calcoli in stati di estrema difficoltà ho aperto la calcolatrice questo è D&D ragazzi un gioco educativo perché vi insegna la matemagica vaffanculo non ironicamente ho imparato a fare le addizioni rapide con questo gioco di merda quindi dai dove la scuola ha fallito D&D X10 la mia vita è una merda ragazzi è stato così bello se non avessi detto niente lo so è la storia della mia vita e poi e poi in aggiunta visto che il dominio della vita fa cagare il dominio della vita è meraviglioso ma mi fa incazzare perché aggiunge oltre a questa cosa più questa cosa aggiungi questa cosa e quest'altra cosa vaffanculo quindi è fatto per quello che ti dà tpng a te così almeno non devo pensarci io lo so Zalzax la potente sacerdotessa casterò un cura ferite su di sé visto che ha supreme healing perché non le piacciono i dadi i dadi le fanno schifo io non tiro dadi e invece cura in automatico il massimo con tutte le puttanate che devo aggiungere ci soffra perché oh ma quando lancio un incantesimo di cura guarisce anche questo e poi aggiungi quest'altra cosa vaffanculo le guarisce di 65 quindi più 4 diventa 60 arriva a 69 punti salute ecco è quanto e cercherò di spostarsi aspetta lo sposto perché lo spostarti perché così ti ricordo se sono i demoni giusto si che non mi carica nessuno vabbè mettiamo le solite da un'occhiata non prendo le palle sia mai anche che tipo non so quanta roba hai nella tua library di immagini quindi magari non so quanta roba ci sia se forse sia riempita come al solito e quindi devi tirare non è che si è riempita aspetta che devo trovare una cosa e arrivo perfetto però intanto roba nila si intrattini no nila si devi parlare tu no chris raccontaci qualcosa che non racconterebbe nila ok volete mettere una data su questo video che se tutto funge sta venendo pubblicato in un periodo estivo oddio se non lo è questo è un bel momento per il sottoscritto tipo questo venerdì abbiamo trasmesso la parte cinque cinque la parte cinque di cuoricini là di incubi nel cassetto in teoria manca solo la puntata finale dio se ci saranno altre puntate quello sì che sarà un altro che ha un momento prima ok ho risolto preparatevi vai vai metto metto i demoni cosa succede cosa ha fatto oh porca troia oh no sono più o più o più o più oh mio dio è terrificante terribili creature saporite io ci terrei a specificare sto imparando sempre di più ad affrezzare la cucina messicana e non desidero che questo sembri rispettoso è una semplice serata di scherzi idioti tu amici no allora non è rispettoso nei confronti della cucina messicana perché comunque questi demoni proteggono la cucina messicana vendi che non sono guaidiani puniscono chi offende la cucina messicana esatto e quindi Chris noi non possiamo accadre di spesso verrebbero a prendere il sonno e secondo è Tex-Mex quindi non so se quanto touche quindi siamo invulnerabili da questa cosa ma veramente invulnerabili credo che conti perché tanto anche se Tex-Mex tendenzialmente ha i versioni tradizionali messicane o comunque lo fanno anche loro quindi però non comportano demoni quindi cioè nel senso quindi siamo a posto così ma che stronzo dove si sono piazzati perché il Tex-Mex è il diavolo del capitalismo è così che funziona esatto hanno tutti un cilindro dei sigari nascosti sotto voi ragazzi vengo ho vi dato chi è Kakri Zalzak si sposta da qua oh oh benissimo quel demon la divorerà eh oh allora questi demoni sono armati di un'ascia sono armati di un'ascia ok un'ascia due mani si un'ascia due poi cazzo ok ok hanno ascia e e artigli quindi allora bene e io ho fatto quindi Nicolò t'ha fatto il drago ha fatto la Chierica si è mossa tocca Sardal ok sì domanda una domanda abbastanza importante Nictarion ora conta ancora come aberrazione o conta come demone questa è una buona domanda figliolo perché devo rifletterci no ti conta come direi in questo contesto ti direi che mi conta semplicemente come Nictarion con questo potere perché sennò dovrei cambiare tutte le resistenze ok quindi comunque conta come aberrazione ancora conta come aberrazione sì sì va benissimo tanto demone tanto gli dà dei bonus e delle abilità sì che poi ti dà un'abilità speciale che è questa in questo caso cioè evocare quando si fonde una roba evoca dei demoni ok mentre questi qua sono comunque demoni considerati demoni proprio cattivissimi e anche molto saporiti allora io ora che ho free love movement posso muovermi un po' di più mi muoverò qui perfetto mi muoverò qui quindi rimango comunque dentro l'area di influenza di nostro caro Nictaco e con dash cioè con haste ho tre attacchi e quindi farò un primo attacco contro questo contro questo demone per provare a dare un minimo di copertura alla nostra allora primo attacco contro il primo Naccio sono 18 ok quindi l'ho colpito sì ok quindi è un demone quindi contro lui farò il danno grosso quindi sono 42 danni bene nice è ancora vivo ti dico subito sì sì quello sì se ha delle resistenze damage immunity no tanto non contano a niente è un resistente al danno radiante come no no non ti preoccupare non è resistente al danno radiante ok e quindi gli tirerò un secondo attacco beh ci potrebbero essere dei moni resistenti al danno radiante ma ne parleremo in futuro non voglio saperlo per ora voglio rimanere la mia ignoranza 29 29 quindi colpito secondo danno sono altri 27 danni quindi 42 più 27 giusto esattamente esattamente e se è ancora vivo gli tirerò il terzo attacco perché credo che proteggere la tizia della vita per ora sia abbastanza utile nella strategia è anche croccantoso oltre eh sì sì è un po' crunchy e sono altri 38 danni quanti? 38 38? sì allora fammi controllare una cosa 38 hai fatto no? ho fatto 38 più 42 più 27 lo riduci in briciole letteralmente in questo contesto questo tipo toina negli inferi tipo emerge da qualche pozza perché abbiamo l'aspetto di cibo sì sì cioè Sarda l'inarca il sopracciglio mentre vede queste cose non si fa domande ma nessuno tra le file del grande Asbodeus ha pensato che poi s'era un'idea di Maida creare dai demoni che sembrassero appetitosi ai tizi che dovevamo torturare e so trattila di mangiarti da solo pensa quando c'è il burro gatto merda cioè il terribile demone vicentino e quindi semplicemente arrivo sfondo questo primo demone e rimango rimango lì fammi controllare ho ancora un po' di movimento se questo no mi sposto un po' più qua sì mi sposto di dove sta il demone scusate una cavolata ha un nome molto tecnico è il purrito caro è minchia sì odio così tanto è incredibile è minchia il purrito è terribile questo è tipo il demone di taglia huge con il grado sfido più mazzo è tipo non so se nel buzz del yugolot c'è è sempre con l'equivalente del mostro molto grosso e stupido che ha ogni fazione è un rito i yugolot hanno tipo il credo che sia tipo bulolotto o qualcosa del genere che sia letteralmente un cane da guai via sì esazzi una roba così cioè comunque il problema è che hanno si chiamano come dei fottuti digimon con lo stesso suffisso ogni volta si chiama quindi non era neanche e lì invece hanno il purrito se side ha finito io ho finito ho finito prenderò il tuino e zarenet il chierico che 100% è solo un chierico e niente alzo casterà tra le cose che ha accesso dio dio solo sa come mai alcune di queste magie ma casterà fiotezione nel dubbio visto che ora ci stiamo tutti spostando e non voglio stronzate casterà fiotezione dal bene e dal male perché sei sopra perché mi sono spostato ma non è ancora scomparso ok zarenet casterà fiotezione dal bene e dal male sul zrago viola ok ottimo pensavo sul suo vero signore il momento il momento della fase 3 l'era dell'oscurità è giunta cosa zarenet zarenet nei miei occhi zarenet è quello che è super creepy palesemente è un warlock sotto ogni aspetto però no è a posto in realtà il colpo di scena è che poi la chierica della vita vendersi maledizione ma tutto qui si è spostato un attimino sul lato e a posto dopo tutte queste minchiate avendo agito sai dalle quant'alzo sarebbe il tuino del lei ai della tag nel momento di vedere cosa succede allora un da sei signore e signori abbiamo fatto quattro quindici shadow del whisper tiro difficoltà 26 saggezza ok ricordatevi che avete il più 3 se siete 130 feet da me tutti amici inclusi quindi tiro salvezza su saggezza eccolo qua 20 più 11 29 20 tiro per eldon 25 qual'è la difficoltà 26 pezzo di maida sei frightened per questo round quindi non puoi muoverti abbiamo deciso che non puoi muoverti in nessuna direzione e hai un frightened o avrei vantaggio nei tiri per non essere spaventato è vero vai niente va bene ok sì per ora evito di fare altre cose ci lavorerò in altre maniere quindi tiro alla fine soltanto fino a che non cambia zona quindi prossimo round già è passato sì sì stavo ragionando se volevo comunque fai cose perché eldon il fatto di non poter muovere eldon significava robe ma va bene più tiro per zalenet quello della conoscenza che fallisce tanto lui sta bene lì forse ha fallito tiro per zalzax zalzax ha successo ok strano che zalzax si risulti immune a questo effetto vedi che ogni singola volta adesso fallisce oh ma ha fallito apposta forse zalzax ci riesce ah vedi c'è riuscito perché non puoi stai solo piantando il seme del dubbio poi fai cittadina vicendo ma questo è come effetto della zona sono i whisper no questo è come in dragon ball super torneo del potere ogni 5 minuti oh no frizzai sta per tradire goku e c'è bastagli per sparare poi colpisce un suo avversario che trova per colpillo tipo 3 volte di fila oh è davvero della nostra parte sì continua a esserilo continuata poi vi le stesse domande ok azione leggendaria di nick tarion yes spara un raggio d'ossadeldon per becco 32 sì sì mi hai preso che sega allora lui fa quando spara il suo eldritch blast fa 4 di 10 più 2 undead mi ricordo 4 di 10 più 10 ok vediamo un attimo dove 4 di 10 39 ok 39 39 me li posso gestire mi si è ancora conosce sì sì ho visto infatti quello di ok a posto a chi tocca Silius se lui ha fatto credo tocchi a me sì perché no perché allora io ho fatto l'azione leggendaria ok ok Silius era prima di me quindi sì ok tocca a Silius ok perché i demoni sono dopo nictarion quindi sì è il momento dovrò a fare a fare una cosa quindi vedo Tacodone Tacodone non è solo un compagno di Silius Tacodone è lo spirito del Vedei di Deltà che è una vecchia e celebriattissima tradizione di Siliastra sin dai tempi tipo dei Goblin assieme quando li ho rivelati dagli occhi ha 30 anni è così antica è vecchia per gli standard di Siliastra Siliastra è compaile tipo dai 30 anni fa è l'origine dalla fondazione Siliastra da ogni tempo anche detto che la vita della vita di un Goblin non è così lunga sai quanta lunga sia la memoria di un Goblin non è così lunga cioè è impressionante non sia successo secoli or sono basta pensare che manco sanno dove hanno imparato a fare i track è stato inventato ai tempi tempi addietro nell'era degli antenati del mio trisavolo due mesi fa cosa è vero era un tasso di mortalità molto alto brutto periodo è quello diciamo una specie complessa quando sopprimmo le galline ma questo è più di semplicemente uno spirito con un aspetto molto appetitoso è un simbolo un simbolo che dopo un lungo periodo di lotta e lavoro e impegno ci si possa finalmente rilassare e riunirsi tutti assieme e godessi un fottuto tanto in pace e Sirius non può far rimettere che questa cosa venga distrutta venga distrutta e diventi una cosa grigia come il mondo devastato dall'ultimo palazzita quindi con ancora due delle luci di Creon of Stice che gli criticano a Toino alza le mani al cielo e invoca Mystic Icanum di livello 9 True Polymorph e inizia a cambiare ma non lo vedete diventare il drago delle lapidi come l'ultima volta lo vedete diventare questo e vi metto l'immagine dove cazzo eh io con Sirius us diventum un planetar che è un celestiale di taglia l'age esatto e e allora dove ce l'ho dove ce l'ho eccolo qua taglia l'age grido fino a 16 dove prendere questa poima angelica perché per salvare per salvare tacodone per salvare tutto il taco friday per fermare un demone fuori controllo save una poca angelica ma è Sirius quindi ancora edgy come poche cose al mondo arcsiders 2 me lo ricordavo diverso sinceramente abbiamo dato un po' che era tema questa io mi ho il token sul momento non posso non posso intervenire oltre perché ho i miei attacchi così via ma quelle sono tutte azioni ma puoi lanciarla no perché non è concentrazione la corona vero? no infatti non è concentrazione quindi se se ho ancora attivo userò la mia bonus action e perché non mi ricordo per sicurezza a creano stai scudo di poter ti te lo posso dire ma non è concentrazione esatto è molto figo per quello perché io ho castato iBubble e ho castato questo e puoi avere gli attivi è molto figo perché vuol dire che posso usare l'azione per attaccare e l'azione bonus per tirare uno di questi in faccia buona ragazzi è molto buona è un incantesimo di settimo livello te lo fanno vedere mizzo foimo e sentite tipo in questa voce incredibile perché ho telepatia e fanno tutte le voci oddio niktarion vocione non è neanche niktarion hai di fronte a te l'angelo del crepuscolo tu tipo non macchierai non macchierai con la tua viltà la gioia del venerdì del daco muovi bestia afferro una delle luci scintillanti che mi avvolgono e gliela tiro addosso come un meteorite oddio mio è soltanto è soltanto un nunchaku magico è soltanto una stellina ninja magica oddio e sono quazzo di dodici danni radianti vai trenta trentacinque che che dega è tipo io io tipo silius ama il trentaco vedi che niktarion in questa nuova forma si gira e mette un rugito e questa roba che arriva addosso con questa esplosione va bene fatto penso di sì per il momento non ho voglia di avvicinarmi in caso se cambio idea non voglio essere chiuso lì con lui ok allora azione leggendaria e patocca a lui ok sarda ti era una slinguazzata ok prenderei trentadue sì ok quindi ti fa eh meno il tag scusate perché devi guardare un attimo le stat 8 di 8 più 10 ok e ti ha ti ha fatto il grapple ok questo cazzo di disegno ti farò parole ok ok quindi sono ok devo fare il tiro salvezza su concentrazione allora un attimo solo che 22 sì allora quindi siamo a 306 meno 45 sono a 261 tiro salvezza allora tiro salvezza su costituzione era sì quindi un di 20 più 9 vediamo un po' no perdo la perdo haste e quindi sono fermo per il prossimo il prossimo tour non posso fare niente ok ok vedi che dopo che hai tirato la sua slinguazzata qua ci sono i 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 niktaco si dirige verso il nostro buon siglio io io allora multi attacca a tre attacchi con il raggio è un attacchi con il tentacolo ok tiro una tentacolata ok la mia i i 20 la la classe è matura di un planetare 19 ok quindi ti ha slinguazzato quello credo che sia loro uno dei loro principali punti deboli per essere di livello alto sono piuttosto facili da colpire per lo standard perché sono sacrificabili sono eroi 48 danni 48 ok devo segnarmelo da qualche fighter perché spara tra il raggio d'eldon ok bene meno male allora ti dico sono 12 più 18 30 poi colpirei 20 e poi colpirei 25 30 20 25 userò scudo già il 20 non mi prenderebbe con scudo mi manca anche il tezzo ok quindi non ti becca con niente quello che ha fatto 12 sul dado mi prende ok perfetto quello è un po' tosto da evitare ti spara vedete che è un po' più aggressivo adesso perché è uno scherza più è lo spirito del tacco 37 37 danni oh boy ok dopo di che toccai nachodemoni allora che vanno in questa direzione caro mio sarde e ti attaccano tutti e tre allora vedi che potrebbero usare la loro ascia ma non lo faranno sì sì no non lo faranno per ora e attaccano con i loro artigliozzi che fanno un tiro per colpire hanno più nove quindi quanta di armatura io ora te lo dico subito io ho 20 ok quindi hanno due attacchi a testa più nove ok sì sì colpito sì non colpito ok colpito è colpito sì no no colpito sì quindi sono quattro attacchi yes benissimo ti dico l'effetto che hanno perché ovviamente dobbiamo schinnarlo per renderlo un po' più adatto ai personaggi che so allora mi devi fare non c'è di che allora ok devi tirarmi praticamente quattro tiri salvezza classifico il tassi 16 ed ecco su costituzione ok quindi sono quindi su costituzione quindi sono te li tiro tutti insieme o uno alla volta tirameli uno alla volta ok un di 20 più un 9 questo è il primo riesco al limite secondo riesco terzo riesco quarto fallisco ok questo è uno addosso ok sì benissimo ti tiro i danni sono due danni 6 più 5 4 volte vai vai 11 danni ti dico poi te li do per ordine sì sì 12 danni ok 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 poi 16 danni ok 10 danni ok ok quindi siamo un totale di danni subiti allora un attimo perché ho fatto direttamente la sottrazione no dimmi come stai ma comunque sono a 212 ora ok praticamente senti che ti hanno artigliato con queste cose ma ahimè una delle ferite è ricoperta di salsa piccante oddio ah cazzo non la salsa piccante sminchiatella capito questa è proprio quella 600 miglia tipo abanero morte della vita oddio ti dico qua ah mito no allora ti dico come funziona precisamente allora ogni volta che viene colpito queste ferite bruciano ok sì ok se viene curato sparisce questa di buff se no puoi prendere un'azione chiunque può prendere un'azione per fare un tiro medicina classifico da 13 e pulirti la ferita diciamo in questo contesto ok allora se no ogni round a inizio del tuo turno ti becchi 2 dalle 4 di danni ok ok per ogni ferita aggiungo altri 2 dalle 4 ok per ora perché non è passato l'ultimo salvezza pizzica niente pizzica sardo brutti sardo sardo l'è stunnato perché si è si è rotta la si è rotto e gli arrivano gli sono la picchiera in testa ah che serius che cazzo di problemi hai non chiedo chiedelo a me me li hanno presentati i goblin non è colpa mia è la tua anzi sono proprio imbato qui non chiedelo a me non è colpa mia sei letteralmente l'angelo di queste trentaia ok finito il turno di queste creature yes nictarian utilizza la sua azione leggendaria da 2 morte mortissima mortale allora asilius mi dovresti fare un tiro salvezza per il suo saggezza classe difficoltà 25 è solo no ho bisogno soltanto di un momento ok la saggezza del planetar è più 11 no attore tu hai stati mentali o no quando usi i politri polimor ma mi vuoi dare per essere sicuro perché non voglio perché perché c'è una differenza tra polimor che voglio essere sicuro di non vincere padre allora uso le stesse statistiche incluse le statistiche ok incluse le statistiche mentali sono rimpresa della statistica della nuova forma ok quindi usi quelle della forma che hai preso sembrerebbe ok giusto vero non è neanche un problema in realtà perché più 11 è più alto del mio più 10 sono abbastanza vicino ad avere il bonus di Seidal 30 fitte da me no sono troppo lontano vai 11 schifo non fa 25 ah 18 allora però se è un effetto magico io ho vantaggio grazie a magic resistance non so se è un effetto magico sì ci direi che è un effetto magico ok 28 ok quindi ce la faccio invece ok allora niente la gioia del taco friday grazie grazie planetavo allora Niles non mi ricordo la volta scorsa che ti aveva fatto ti avevo fatto i danni comunque non avevi perso il concetto sì non avevo perso il concetto perché sì sì danni me ne avevi fatti mi ricordavo una cosa credo me ne avessi fatti 60 danni 60 danni ok è andata bene perché poi su questa quando fa questo attacco dimora i concetti già in casca 60 danni sono a non c'è qua sono sì sono già a metà oh no sono già a metà vabbè è Niktarion raga è Niktarion è Niktarion però si brucia due azioni leggendarie per far sta mossa quindi poi tocca di nuovo a voi tocca di nuovo a noi io ho saluto il turno quindi sì Eddon è frightened sì non posso muovermi e avrei svantaggio a colpire ma forse il fatto che avrei svantaggio comunque farò un'altra cosa vedi la cosa divertente di catapulte è che in realtà ha un raggio enorme di tipo 90 feet o qualche puttana del genere ma dell'oggetto che scegli e poi quell'oggetto viaggia di 30 feet quindi io prenderò rovine che ci sono state perché questa zona la gravità si è invertita si è spaccato tutto per andare per sparare catapulte in questa direzione quindi banalmente come la scorsa volta il primo che colpisco che è quello più in basso fa un tiro salvezza su destrezza se lo fallisce finito così se no lo deve fare il secondo e così via allora lui hanno più zero quanta è la difficoltà? 8 più 6 16 18 quindi becca il secondo quindi lui subisce wow si sposta l'alzo non si sposta in tempo colpisce quello ok e catapulta lo tengo abbastanza basso in realtà lo devo sparare a 2 perché l'uno me li sto tenendo dove cazzo è? perché in realtà catapulta proprio perché è un po' bizzarro su come su come quando e perché colpisce le persone in realtà è un incantesimo piuttosto decente ad anni anche a bassi livelli 2 eeeh 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 ccicicici ccicici ccici ccicici che tapulta sono 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 4 di otto quattro di otto sono ventiquattro danni per il il naturalism il naturalism esattamente ok ecco qui non penso di avere cose super speciali da fare su me stesso e non posso muovermi quindi oserò definirmi contento per il momento vorrei prendere il tuino con Zalzax e vedremo ok Zalzax tu come sei messo Sider? io sono a 212 su 334 ok però adesso do una mano a Silvio Zalzax si muove dai dai resterà nelle vicinanze quindi comunque sia qualcuno lo può fare si muove di qui e lancia heal con cui Silvio si guadagni 70 punti ferita ottimo 70 punti ferita sono scusatemi per il rumore cercherò di mascherarlo poi nella registrazione perché so che non sia proprio il basso e basta questo è quello che posso fare io ok toccherebbe a Sider che non può agire quindi finisce pure il suo tuino eppure Zaranet aveva fallito il tiro quindi non si può muovere e Zaranet di cura poco e un cazzo non posso curare dalla distanza quindi resta guaidare azione leggendaria di no perché allora prima di ha finito Sardal cambio di no allora azione leggendaria dopo Sardal ok ok sulla nostra Chierica che è curatrice e colpirei 24 eh si lei ha 23 quindi ha preso ok 4 di 10 più 10 27 danni no 37 danni scusami 37 danni va bene poi cambio di scenario dato 6 1 gravità gravità allora ok il dragon è immune ve lo dico subito va bene fenomeno difficoltà 26 vai e cos'è la distrezza anzi no vi dirò una cosa ok dimmi vi do un'opzione ok posso fare usare l'azione leggendaria del drago per impegnare questo effetto se volete come ve la vedete voi riduciamo comunque i danni ed evitiamo procambi di movimento non è male come cosa perché c'è sempre il discorso e possiamo tenerlo per i più tardi oppure no sì comunque sia probabilmente meglio cioè ci toglie un elemento per questa volta dai se sono tutti d'accordo allora sì vede che il drago si solleva sulle zampe è molto debole così via quando la realtà comincia a shiftare vede che lui branca gli artigli sul pavimento vedete la sua aura di luce viola che avvolge tutta la stanza e da questo momento non può più usarla la direction c'è il nectario ok la stabilizzata ok e tipo ci si sta concentrando soffra per nulla va bene va bene la direction per ora fin tanto che il drago è in piedi non può usarla ok intanto che è in piedi ok tra apparenze avete castato non avete lanciato nessuno di voi il wild magic dai hai ragione hai ragione scusa che scemo lo posso fare adesso lo facciamo il prossimo tiro ve lo considero tutti tre ok mi sembra giusto mi sembra giusto sì almeno partiamo perché non ci ricordavamo comunque c'era un livello tutti adesso al prossimo c'è così tanta roba in gioco al prossimo cast avete tutti avete tutti uno due tre per la wild magic dai mi sembra più chiuso io non ho incantesimi decenti mi sembra che castano pure sì jokes on you fatto questo tu a Silius ok io e te mostro e credo proprio che utilizzerò il mio attacco noimale posso fare due attacchi simili e un più dodici per colpire ecco dove preparo in alto la mia vanagandoli che anche essa sembra vanagandoli ma è comunque trasformata quindi anche il danno e così via ovviamente è cambiato un di venti più dodici uno naturalmente per il primo attacco benissimo 17 no sto continuando a sperare colpi ma ho li blocco mi fai ma tipo maledetto e allora prendi questo afferro l'ultimo delle mie l'ultima delle mie delle stelle di corona di stelle e gliela tiro addosso almeno farò i miei quadro di dodici ma con questo ho finito ho finito le stelle vai non riesci a portarti a ferire la figura di takodon 19 sì esatto è tipo è quella fottuta cosa di full metal alchemist prende l'aspetto oh non faresti mai del male allo spirito del takofiore ha ragione non posso farlo e poi tipo prendo lo stesso e poi all'ultimo prendo l'ultima luce di corona di stelle gliela tiro addosso e gli faccio 19 danni radianti tipo ha ragione non riesco a portarti a fargli del male sarda 5 danni per le ferite per le ustioni da la stessa piccante non mi ero scordato ok tu come niktarion praticamente ti odia e ti spara addosso anzi no fammi vedere non è così stupido quindi no ti tira la slinguazzata ancora ti ha colpito a chi al nostro buon planetar ok 55 danni va bene 3 raudi addosso alla chierica oh boy allora più 18 quindi 26 22 no 1 naturale ok 20 solo 1 cazzo ragazzi niktarion è terribilmente ah no ne aveva 3 scusatemi quindi vabbè comunque quello 1 naturale finiva niktarion è terribilmente pippa contro sta chierica lei è incredibile chissà quermai quanti danni fa no ti fai mettere lo di seminare il zizzania 39 danni eh 39 bastano comunque quindi torino a 0 chissà quermai forse forse era tutto un accordo no lei non accoglie niktarion smettila forse sta fingendo forse proprio guarda un colpo si potrebbe ucciderla invece non l'ha fatto voglio visto che è passata la paura dimmi quando hai finito il tuino che prenderò il tuino i miei demoni che attaccano il buon sardal allora tu non hai non hanno di vantaggio colpirti in questo contesto vero? allora qui dice quando haste finisce vado subito dice che semplicemente you can't take se mi fa andare no te lo dico io non usa nessun termine tecnico poi di il tuo punto quindi you can't take move you can't move or take action until after it's next turn quant'hai di armatura? io ho 20 di armatura hai 20 uno sì due due attacchi mi fai due tiri salvezza ok quindi sono sempre su costituzione fallisco e ci riesco ok ti becchi in totale 9 14 23 danni ok se hanno finito i natural lot prenderò il tuo nozzarenet che prima prima non l'aveva fatto perché non potevo fargli fare granché non farò comunque queste grandissime cose ma bersaglierò il natural lot che aveva preso catapulta in faccia quello qua sotto con sacred flame tiro salvezza su destrezza ok wild surge ok sì anche l'ho tratto anche per i per i dracolite perché la scorsa volta ti dico subito per onestà non l'avevo fatto quindi forse ho sbagliato sì vabbè fai anche per loro dai 1 2 3 abbiamo detto 20 quindi niente annoterò che zara è 1 2 3 4 no voglio tirare che si è accastato adesso quindi cos'è faglielo tirare a zara se si è accastato adesso tanto se sì sì ho tirato mi è uscito 20 quindi non non c'è il wild magic surge ok è un tiro salvezza su destrezza per il per il natural lot che si era preso catapulta che è quello più in fondo eh no è questo è questo qui in parte perché il primo l'aveva schivato ok giusto allora va bene praticamente un tiro salvezza destrezza allora non ho 0 non la preve vai fammi il danno perfetto sono grazie al fatto che un chierico di 18esimo livello sono 4 di 8 danni radianti ah beh lì 15 danni ok sì mi sono fermato poi a ricordarmi che ce l'avevano e comunque sia Kenzrip a questo livello schifo non fanno io mi senti pure ah mio signore Cthulhu dammi il potere salvarla è proprio mettila è proprio quello che ha detto si sposterà qui a posto ok eh sì finisce il turno ricominciamo da capo vai allora vuoi andare tu Gabbo vado io vado io anche perché non ho molto da fare quindi Sardal si ripiglia credo di dovermi beccare comunque 4 di 4 all'inizio del turno sì 4 di 4 perché finché non la curi non sì bene 11 danni ok allora meno 11 quindi sono a 173 ok 173 eh allora prima di tutto casterò con eh uno slot di livello 1 eh sul nasce o demone di fronte a me quello che è subito danni casterò Hunter's Mark sì quindi con un'azione bonus e poi proverò ad attaccarlo eh primo attacco 22 dovrei averlo colpito sì voglio quindi quindi sono 33 più il d4 di enlarge più il d6 extra di Hunter's Mark quindi sono 39 danni col primo attacco secondo attacco sempre contro di lui eh con 15 15 lo colpisco? no è il noccio demone dici? sì controllo il naciolot scusatemi il naciolot ha classe armatura 18 e io ho abbastanza finito ok posso fare molto altro prenderò eh il danno in totale degli attacchi che ho fatto è 39 ok eh prenderò il tuino con Zaranet eh no fermo fermo un attimo perché l'azione leggendaria ora perfetto vai quando quando sarà finito quando sarà finito allora prima di tutto il drago fa qualcosa la cosa dell'election lancia bless su tutti voi tre ok ok quindi avete un dado 4 extra i tiri salvezza contro poco quindi non serve un cazzo però un dado 4 più hai tiri per colpire esatto tiri per colpire e tiri salvezza e Nictarion fa la sua mossa guarda siccome si è rotto le balle vabbè sono un scemo io stavo pensando cosa può fare no però va bene così fa questo semplicemente tira tira una slinguazzata alla nostra chierica ok quindi la manda subito giù di due slot aspetta che guardo no guardo se la distanza è fattibile però no le slinguazzate non le spara guarda se la colpisce si la manda giù due slot quindi più 18 26 la presa quindi ok quindi ancora un colpo muore ok tocca lì ho fatto Nictarion ha fatto e tocca Silius non tocca Elton toccherebbe toccherebbe a me infatti prima di quello scusa no perché loro ho perso il conto perché non ho capito Sardac quando è intervenuto ha agito per il primo nel turno perché essendo pari quindi ok perfetto sì sì allora ha agito prima del turno poi ho fatto la menzione leggende mi due azioni tocca a te sì prima interverrà Zareneth che non può raggiungere la chierica e non ha curi a distanza quindi quello che farà è si fermerà qui così e proverà a castare una cura di un cura ferite di quinto livello su Sardar allora ti aiuterò il mio amico Ultrasatana tipo aspetta cosa in questo momento sono di larghe vedute comunque Ultrasatana non è così male paragonato a Nictarion dai eh sì comunque ci puoi ragionare Antizia comunque non vuoi divorare le cose a casa 5 di 8 cura 5 di 8 più 5 nel filo fa quello che fa però sono 21 punti ferita però schifo non fanno esattamente tra parentesi curandoti ti toglie il debuff yes ah ok perfetto e e soltanto finisce la salsa piccante dalle tue ferite vedi che si muove lui ha delle vesti è tipo più tipo veste da mago con soffriacotta di maglia infatti che te le muove sì non preoccuparti fio del guerriero adesso 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 rinasci nel sangue come il mio caro signore il tuo cio fulmine rosso che fai te ma non eravate chiedici sì sì mi faccio definire uno spirito libero il mio termine preferito è filosofo libero pensatore c'è già qualcosa sotto mi sa in questo posto toccherebbe a eldon eldon adesso è libero di muore sì che cosa faccio che cazzo figlio di puttana scusa ho seccato la chierica va bene ok togliamo questo togliamo questo domani si restano tutti tranquilli vediamo la faremo allora a posto vai ok eldon 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 boy oh boy posso andare di qui a fare qualcosa a questo punto eldon sta riprenderà il suo percorso Rob tu come te la vedi perché a questo punto mi sa che io passo passo dietro a Seidal tanto per fare male sto arrivando sì facciamo così farò 25 feet anzi facciamo eccomi sì guida abbiamo già visto che uno dei dei nacholot dei demoni nacho intercambiabile sono non so come dire cazzo l'hanno più facilmente quindi prima venite sbarazzate prima venite a darmi una mano sì anche perché io così al prossimo tuino mi muovo e ho io ho aiutiamo zalzaks scusa e così questi tre sono dentro la mia aula di spirit guidance buono ho fatto 30 feet quindi comincerò a sferlare attacchi a spadate attacco prima di tutto devo ricordare michios oddio svantaggio no come no con free of moment non hai più non hai più svantaggio ok figata scusa non attacchi a piede per quello che avevi lanciato free of moment figo figo 1 di 20 più 14 più 1 di 4 parto attaccando il nacholot che so essere già ferito quindi quello il secondo praticamente lì sotto primo attacco colpito sì direi di sì faccio faccio i danni separati per adesso se va bene che vediamo sì sì vai così vediamo cosa tiri giù 1 di 8 più 2 da 6 di fuoco di mezzo nel fuoco ok allora li terrò i dadi li terrò i dadi in fondo eh sì sì se ne battono li terrò ti terrò i due dadi in fondo così sai quali sono allora sono invece 1 di 8 sono resistenti per caso al veleno immuni immuni al danno da veleno allora non aggiungo neanche il trickery domain quindi è 1 di 8 più 5 di destrezza più 2 di dueling più 3 della mia spada più 2 di 6 danni da fuoco dovrebbe essere tutto giusto let's go sarebbero 22 invece sono togli qua sono 18 danni il primo attacco ok e ancora in piedi sì sì secondo attacco 26 per colpire capito ok sono 22 danni e ancora in piedi poiché cazzo no aspetta controlla una cosa aspetta eh perché certo 22 24 no 22 danni 22 ok scusami eh perché allora andrebbe questo sì ancora in piedi ok eh teizzo attacco mhm 36 per colpire sì sono 18 danni morto ok sferro un attacco contro quello che mi è rimasto di fronte mhm che è il mio quaito e ultimo attacco per questo turno 22 per colpire l'ho preso perché è 18 se non sbaglio mhm faccio ehm 15 danni ok 15 vabbè e se non sbaglio per questo tu in orzana ne t'aveva agito quindi io ho finito mhm ok allora azione leggendaria blastata addosso a Silius per anzi addosso a Eldon che ti vede bene ah ventina oh no oh mio dio quindi l'ho ucciso sono fatto di 10 più 10 più non mi butti laggiù ma poi 70 danni poichè allora dove sono sono a questo qua dai ce la puoi fare è solo un graffio si te sbatta scratch poichè puttana ok oh devo fare una concentrazione oh sega non posso fare concentrazione tiro su concentrazione soltanto per provare a vedere se riesco a fare il critico eh ho vantaggio per mantenere la concentrazione aggiungo è un più 11 diventa più 12 diventa più 15 grazie a SIDAR yes io il critico ce lo faccio spirit guardians non se ne va baby maledetti spirit guardians volesti vaffanculo c'è tipo qui sta sta insegnando nica a odiare odiare questa regola che ho permesso di coi venti naturali anche in queste cose funziona spara questo colpo ora hai finito coi tuoi angiolè oh e c'è tipo c'è eldon asterione icarus in questo gioio post da pillai man sottolineo che noi usiamo questa regola perché ci sta seguendo abbiamo visto gli episodi precedenti noi usiamo questa regola dove coi venti naturali triabilità siccome magari ci possono essere delle classificità molto alte soprattutto a questo livello come abbiamo visto col venti naturale si può ottenere comunque il risultato che non è una regola canon di quinta edizione lo sarà in one tra parentesi da quello che è uscito quindi comunque la regola che tutti usano però non è una regola canon a livelli così alti dato che il gioco non è fatto per gestire livelli così alti abbiamo deciso di mettere questa regola perché le difficoltà diventano effettivamente molto alte esattamente in aggiunta c'è il consacorpo che noi adesso abbiamo detto è l'uno fallisce in automatico ovviamente come al solito se metti un venti automaticamente c'è un che come consaltare serve anche a bilanciare perché certe volte tipo per colpire io tiro più quattordici ci sono volte che uno ci ha quindici quindi di base è la regola base nel tiro per colpire quella è la base cioè il dado venti successo l'uno fallimento è sempre così nel tiro per colpire noi l'abbiamo dilatato anche i tiri salvezza e i tiri abilità perfetto ok cioè nel senso che in teoria tu non potresti cioè col tiro per colpire naturale l'uno naturale nel tiro per colpire è sempre è già incluso è già incluso errore mio no è che tu sei abituato a fare l'elfling è vero è che l'elfling l'elfling è questo decente equilibrio dove quando esce uno me ne dimentico un po' me ne dimentico e un po' comunque mi annulla l'uno sì perché l'elfling sotto questo aspetto è un po' rotto tra virgolette perché nel tiro per colpire annulla il fallimento critico cioè l'unica cosa che sostivamente è tostarello poi non è niente poi in sé la razza non è la sua cosa più figa annullare l'uno è già senza modifiche nostre annullare l'uno nel tiro per colpire l'uno sarebbe un fallimento automatico l'elfling non lo fa l'elfling non lo può fare l'elfling a culo stupido il fallimento non è un'opzione esatto non è un'opzione va bene comunque sia l'elfling con l'alfa che cazzo ho fatto quindi sì io avevo finito era era intervenuto Niktarion che infatti mi aveva ferito tocca dopo di te tocca Sardal tocca Sardal no sai da ragito questo turno se non sbaglio ok quindi Silius sì ci sarebbe una re-action ma gliel'ha spenta spenta tocca Silius dai e allora impugno allora mi hai ma cercherò di sferrare un altro paio di colpi ok ricordi che è un dado 4 da aggiungere sì sì fammi vedere un attimo sì è comunque la cosa migliore che posso fare sul momento quali quali incantesimi hanno offensivi flamestrike eh non credo più quindi un di venti più dodici più un di quattro andiamo menti da trovare vai vai ricordi che erano tutti i dadi tutti i dadi il che vuol dire la great soil che per me è sempre la mia falce va negando ma sarebbe una great soil statisticamente 8 di 6 eh sì 8 di 6 più 7 tu fai 8 di 6 più 10 di 8 più 7 poica di quella zloia sì perché fa 8 8 di 6 taglienti più 10 di 8 radianti più 7 sono 89 danni poica zloia secondo attacco poi descriveremo quindi un di venti più un di dodici più un di quattro 20 non naturale perché è 7 io ti lo tuenti ecco sì e stavolta è solo quattro di 6 più 5 di 8 cosa siamo dei paesani qui 44 danni il planetai fa molto male ma lo frega che per questi livelli è la classe armatura e le vite cioè mi aveva già mandato tipo se eldon mi curava ero già a un quaito della salute però quando prende prende la miseria e tipo in pugno vada grande che stavolta non brilla tipo non si illumina di energia elementale di freddo e tenebre ma brilla di pura luce come la mia ureola la mia ureola che è questo semicecchio quasi come un sole che soige per indicare un nuovo inizio dopo le tenebre una tipo una nuova alba una nuova energia ed è anche a forma di tacome un dettaglio completamente casuale alzo la falce e sprezzo due pendenti facendo una facendo una X di energia scintillante sul petto dei nektarion di caro di belva e ho finito perché non ho più non ho più le stelle di crown of stars quindi la mia azione bonus non ce l'ho per quello ok purtroppo non so ragazzi temo di non aver fatto abbastanza questo tuino dai se i chiedi ci sono tutti a terra quindi no penso che abbia agito se non sbaglio ok quindi al prossimo che posso agire con lui e quindi toccherebbero ai mostri a niktarion ai mostri allora facciamo prima che attaccano i demoni vai allora niente non so chi ok ok così almeno faccio un niktarion pulito in Italia non ti chiede una slinguazzata mi sembra giusto 20 naturale oh boy oh cazzo 16 di 8 più 10 contro chi Silius mi sembra una giusta vendetta tipo vedi che si incazza proprio inizio il lavoro 81 danni sono ancora in piedi io non riesco mai ad ammazzare i personaggi di rob che cazzo sono troppo forti ho fatto un 16 di 8 ok 81 danni hai detto sì sono 32 minchia e tre raggi su eldon non ti becca mi sa che ti becca col 6 ti becca 18 6 più 18 24 mi ha preso sì ok vai 4 di 10 più 10 23 danni ok sto cominciando a prendere un po' di botte no it's fine you can take it I can't vediamo di dai ti una vediamo di dai ti una mano a tempo debito se non alzo assieme dovreste riuscire ad affrontare di bene mai sì vuoi andare tu o vado io Cree apri tu che se ne togliamo di mezzo è più comodo per me ok apro io userò l'azione bonus dato che è morto il 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 natural lot su cui stava Hunter's Mark spostandolo su quale dei due mi sembra più ferito all'impronta mi sa che avevo colpito questo ok allora lo sposterò su questo qui il Hunter's Mark con l'azione bonus quindi primo attacco devo ricordarmi il d4 extra anche per colpire vabbè non serve però nel dubbio lo tiro però credo che con 28 l'ho colpito sono sicuro quindi sono 30 più un d4 più un d6 sono in tutto 37 danni con il primo attacco secondo attacco sempre contro di lui se è ancora vivo 37? sì sì ancora vivo non è proprio niente uno naturale quindi fallisco e sono ancora grappled per colpa ok quindi mi togli libero e infatti siccome mi sono ricordato come funziona freedom of movement utilizzerò utilizzerò i 5 fit i 5 fit di freedom of movement per togliermi dal grappled esatto e fammi vedere se riesco a fare una roba voglio vedere io sono a quanta distanza da Sirius assai però teoricamente io in taglia large ho comunque un area di influenza per gli attacchi un po' maggiore quindi può aggiungere un dodo qua e benedizione non hai aggiunto il dodo qua tra i tiri no no al primo tiro per colpire l'ho fatto al secondo ho fatto uno naturale più 13 14 quindi anche volendo era inutile e sì mi sposterò fammi controllare se no lì non lo riesco a colpire quindi no niente semplicemente mi sposterò qua in modo tale che possa ancora colpire il 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 più ferito e basta ho finito un attimo esci dalla sua area però attacco di opportunità ah è vero lui c'ha lui c'ha eh va bene mi prendi l'attacco di opportunità ok si colpisce ok risolvezza classificoltà 16 vado subito sempre su costituzione quindi 20 più 9 no fallisco quindi mi ripeto 12 danni e il buff addosso 12 danni ok il buff addosso la salsa piccante piccola cosa ho finito di fare questo che avete iniziato sul disco fammi vedere oh mio dio oh ma sono bellissimi wow che cazzo a parte che sono incredibili che cazzo di velocità Rob adoro adoro l'occhio col naso dentro bellissimo si si hanno gli occhi a triangolo perché sono strani e infernani poi Rob mi devi raccattare tutti questi disegni del caso che ogni cosa correlata su Sirius è in una caitella a te ma sono ordinato quando si tratta dei miei personaggi di The Powerhouse ecco perché li sto sistemando a parte li sto provando a mostrare già così ma ovviamente un po' grezzo poi per caricare gli amete guai date di passo e pian piano quando compaiono in contemporanea li si fa saltare in giro di professionalità mamma mia allora oh mio dio Chris deve censurare costantemente si 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 tutte le fasi estremamente tipo orribili che vengono dette qui così questa che per dire adesso Chris mi sicuramente vi censurerà come cazzo si è permesso Nicola a dire una cosa nel genere ma è terribile non puoi è il 2022 Nick dio sto detto di nuovo l'ho detto di nuovo sono un uomo con delle opinioni che ha la paura di nasconderle ragazzi dobbiamo cancellare Nicola sto disperatamente cercando di capire Chris attacca cosa Chris uccidi si si sto cercando di capire un paio di possibili combinazioni anche perché Zalene tra tipo due cose da Chieric effettive e le altre a culo quindi sto cercando di capire se potevo usare qualcosa ma è l'unico in piedi Chris fatti le domande prenderò l'edizione prenderò il tuino di Zalene che si sposterà e lancerà un buon vecchio rivivify tirerò un di venti per vedere se esplode sul posto invece boom continua a tirare venti critici non mi piace non mi piace si ah grazie mio signore ora la reputa in vita come sua servitrice smettila Zalzak si riprende con un punto ferita e con quelli e per ora ho dovuto finire tocca a Eldon e c'è il che ero di uccidere i Nacholot perché ci sono davanti e oh a proposito ti chiedo scusa se vuoi non tiriamo neanche questo giro si va adesso che ci arriviamo quando i Nacholot hanno cominciato il loro tuino quando cominciano il loro tuino tiriamolo comunque perché si mi interessa tirarlo così ok per i Spirit Guardian se vuoi vedrelo sono due tiri salvezza avevo detto su destrezza se non sbaglio si destrezza difficoltà 16 no perché loro erano 0 ok io l'avevo castato con qualche slot stupido quindi facevano 7 di era 8 si era 8 ok chiedo scusa sono tante cose quindi sono quindi sono eccovi qua si infatti l'avevo lanciato no l'avevo lanciato di settimo sono 7 di 8 danni radianti quindi 44 danni radianti ok buono buono più che così ecco e è meglio per la sicurezza in generale se cerco di occuparmene quindi quindi sferrerò i miei 4 attacchi contro il corso di fronte a me vai inizia a sbagliare i primi vediamo come va 1 di 20 più 14 più 1 di 4 let's go è un 1 naturale ma sono un helfling si mai detto 24 lo prendo sono 1 di 8 questi stronzi sono immuni al veleno e sono resistenti al fuoco quindi ci arriviamo subito è 1 di 8 più 5 di destrezza 2 di dueling 3 della mia spada più 2 di 6 che dimezzeremo quindi sono 19 danni ok ancora in piedi secondo attacco 33 l'ho preso a questo punto so che è 18 non ti dico più il numero per colpire sono 20 danni ok 20 si alla tarde perfetto mi sposto scarocchia via no briciole ovunque che scopo eldon corre in avanti scrocchiando sul pavimento e sono dato ah li prende un posto estremamente disordinato minchia è il caos briciole nel letto a chiunque quello era il mio secondo attacco se non sbaglio infatti si ancora due attacchi esatto sferro il mio teizzo attacco ce l'ho fatta gli faccio 16 danni ok qua e tu attacco 20 critico daje daje il problema è che purtroppo la maggior parte dei dadi saranno di fuoco però funziona bene va bene è ancora al doppio sono dammi solo un secondo adesso perché questo è più complicato per la mia testolina 7 danni da fuoco già dimezzati si ok quindi tolgo altri 7 quindi sono 28 danni 28 danni mentre eldon asterione icarus i due angeli l'angelo di aroden e l'angelo di greenbottle si è soltanto questo è soltanto questo è un pestaggio è diventato un pestaggio ok eldon ha fatto yes prenderò il tuino con zarzak se nessuno desidera fei maimi allora si dimmi io ho un'azione leggendaria ok vai io ho più a dire il vero perché non ho ancora affatto si io stiro salvezza yeah stiro salvezza su cosa lo faccio lui è un 26 ok quindi è più 11 25 scusami 20 è un effetto magico si trova il nuovo di volare ok allora ho vantaggio 2 di 20 più 11 ho fatto 22 oh caro l'ho fallito 77 danni oddio sono morto quindi su polymorph cessa fammi vedere come funzionava prendi danni in eccesso torni alla vita che avevi prima ma pigli danni è la stessa roba del droido quindi sì 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 polymorph in quell'aspetto è uguale quindi direi che però in un certo senso hai avuto fortuna oh perché dato che l'attacco era rivolto al planetar e non a te ha divorato qualcosa ma non ha divorato a te cioè non ha divorato a sid cioè lui avrebbe divorato qualche abilità del planetar ma tu sei uscito cioè il planetar è uscito di scena diciamo sei tornato te stesso quindi l'effetto non si è attivato su di te di scena potrebbe essere molto figo se lo immaginate perché proprio l'offrente divora il concetto divora questo aspetto è tipo ed è di nuovo Sirius letteralmente l'effetto visivo avete presente God of War 3 quando uccidi Ade che gli tiri è in questo effetto dove inizia a risucchiare la foiba eteria del planetar e Sirius cade per in terra sì sì potrebbe essere una cosa così sì vedi proprio è la prima volta che vedete davvero cosa è capace di fare oh mio dio ti direi che però in questo contesto non è neanche più lo status grapple perché è cambiato forma ok cioè secondo me oddio no ce l'hai il grapple perché comunque sul soggetto sì ce l'hai il grapple perché comunque non passa la condizione ci sta ci sta ho ancora freedom of movement per liberarmene sì sì infatti allora ho preso quello quindi ho subito 45 quindi sono a 104 ecco qua ok posto la forma angelica e torno al mio noioso signore oscuro non è vero adoro voglio bene al Sirius ok io avevo questo è una le peste un critico in faccia quindi insomma me lo sono meritato però vuole anche mettiamola così mi ha tolto la forma però prima io ho piantato un critico in faccia sì sì e poi cazzogli al lavoro ne hai fatto eh va benissimo credo che avevi fatto un centinaio di punti di danno se Sirius ha fatto e lui ha fatto la cosa leggendaria tocca a Nictarion e al Nacerlot se non sbaglio allora sì oh scusami no c'era Zalzac c'era il Chierico esattamente Zalzac stava prendendo il tuino e poi ha fatto la cosa leggendaria l'avevo già calcolato Zalzac si casta casta su se stessa un cura ferite di livello 4 riacquisendo oddio ho chiuso la calcolatrice erano 5 oddio dammi solo un secondo 30 40 47 quindi eccolo qua e fioverà a spostarsi lei si sposterà qui 10 la Deldon ok tocca al Naccio Demone il Naccio deve tirare per Spirit Guidance esatto che deve fare un tiro salvezza non lo passa fammi il danno uff 7 di 8 danni radianti sono 34 danni radianti ok penso è tipo Icarus lo spinge per il terra e Asterion lo prende a calci nel corso provare una cosa ok quanti? 34? yes ok poi praticamente si sposta col teletrasporto vedete che tira fuori la sua questa ascia no? si vedete che praticamente solleva quest'ascia e poppa via fa mai puff e appare qua attiva un attacco di opportunità questa cosa? no per teletrasporto ok se si teletrasportano vuol dire che non stanno uscendo infame del cazzo figlio di zoccola posso chiederle se no perché sono sempre questi demoni legati al taco che veramente soltanto alza lascia me puff si si me puff si chiaramente 20 naturalmente il moco il potere oh dio me puff è troppo potente va bene oh no oh no il me puff si dovrà tutti 4 da di 12 22 più 5 quindi 27 danni va bene oh no queste entità diaboliche si fa tipo tu alleato del nostro nemico infernale tipo questo lo sappiamo lo sappiamo sono tutti traditori allora questa è una di quelle situazioni dove tipo ah io sono un traditore aspetta ma anch'io sono un traditore ah questo è imbalanzante oh no ok adesso lui ha fatto il nostro nectarium prima che iniziasse il duro ancora un'azione leggendaria perché non siete solo due ok e fa un teletrasporto oh no può farlo anche lui no vai via devo capire dove si si qua perché hanno deciso che questa cosa non c'era una cosa per i giustizia l'effetto di spirit guardian si attiva quando cominci il tuino o quando handtrip hai la prima volta si si ma lui se ne batte il culo ok tiro salvezza cioè li mette i danni non è un problema devo capire solo dove metterlo ci sta ok ok lui si mette qua no va bene qua ok si quindi mi fa meglio tiro salvezza yes vai difficoltà 16 passato perfetto piglia la metà 31 che diventano 15 ok 15 danni oh poi caputana e qua attacca eh? attacca ok è inizio il suo turno yes chi allora quindi tira una morsicata ad eldon oh dio non ti becca mi sa 25 lancia lo scudo apposta per evitarlo ok non è il caso poi tira tre raggi prima un lancio sul nostro chierico preferito tra dittori di tutti 23 ehm su quello della conoscenza si ok colpito quindi si 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 ok poi una cosa chierica della vita che non colpisce ok perché 20 non colpisce no? lei ha? lei ha 23 23 vai si poi la seconda con il fish allora ok 4 di 10 sul nostro chierico della conoscenza e più 10 24 e 4 sul nostro chierico 20 su quella della vita ok ok allora quindi 24 mio signore perché? 88 sshh sshh tieni la scena è ironico perché Zalzac se ha un punto ferito coincidenzialmente eh ho detto quello è ha diventa 88 diventa ok scusatemi matematica ecco fatto a me aveva mancato giusto? si avevo usato il sito apposta però vai ok ricomincia il tuino lo ha fatto tocca al tacco demon eh aspetta ah no ha fatto la sua azione quindi niente iniziativa si è trasportato attaccato ok oh dio santo cosa allora un paio di idee ma non nessuna buona eh allora allora prenderò il tuino di eh prenderò il tuino allora io sono abbastanza sicuro che sia passato un minuto dall'inizio di tutto sto baradam quindi vo enmity se ne andrà e anche enlarge se ne andrà a sto punto zarzak si è messa molto male lancerò ancora ferite di massa e vedrò fare il più possibile zaranet andrà subito dopo di tag hub gli faccio castare etherealness e lo faccio correre via di qui che lo faccio dirigere verso i coipi moiti che ha lasciato il tisi adesso allora io cosa posso fare io l'unica cosa che posso fare è spostare magari dato che è morto l'altro nachodemone che c'aveva Hunter's Mark lo potrei a sto punto spostare su Nictarion e andare contro Nictarion potresti a questo punto se sei messo bene di vita potrebbe anche essere bene che pigli un attimo d'attenzione perché lo dico intanto che Nick non c'è a sentire lo Eldon ha tipo 60 punti ferita no allora facciamo così te finisci il nasce demone io in questo turno tanto l'unica cosa che mi rimane da fare c'è almeno un cartone nei denti nictarion non posso pigliarlo forse anche due io non riesco a arrivare in miri in questo turno ma mi avvicino faccio un eldritch blast visto che adesso sono di nuovo me ne approfitto pur di l'azione bonus per attaccargli l'ex blade curse così si applicano già più effetti quando attacca me che finora ancora che è uno stai se non mi è mai servito aggiungerlo e ho ancora uno slot cri agisci però prima tu perché devo andare pure in bagno si va bene tanto adesso faccio i vari componenti del team salve dammi solo un secondo che stavamo parlando con gabere ed è andato anche lui questo più sette eccolo qua allora per la gioia di tutti grandi e piccini all'inizio del turno zarzax prende il suo e lancia un cura ferite di massa al quinto livello che guarisce nel suo caso tutti quanti di 31 punti ferite entro un raggio di 30 fit quindi ho detto c'è l'ho qui così 31 lei arriva a 32 cicciocoso qui 99 69 eldon arriva eldon è a 63 per la gioia di tutti i grandi e piccini arriva a 94 e anche saidal ripiglia la 31 se me lo ricordate poi sarà molto utile ha fatto no saidal se n'è andato quindi io ho l'azione leggendaria certo si si zalzax ha finito azione leggendaria se vuoi attacca 22 no perché ancora armatura se no perché questo è un nuovo tuino finisce fino all'inizio del tuo prossimo ok scusami so per cose da tenere la mente chiedo scusa meglio così i turni vostri ormai non è più a round no perché stupido a round perché se tu per dire lanciavi shield alla fine eri l'ultimo lanciavi shield ok ci sta ok il turno è calcolato sul tuo turno nel momento in cui comincia il mio turno vado a fare le cose va benissimo allora adesso adesso prende il tuino Eldon perché devo comunque altainare in mezzo i vari chierici del caso quindi tocca a Eldon Eldon si trova qui Eldon farà farò un umilissimo probabilmente per riuscire a muovermi visto che lanciare la spada qui attraverso un alleato non funzionerebbe faccio un misty step spostandomi qui e sferro possibilmente tutti i quattro attacchi vedremo come va contro il naturalot proviamo a tirare via questo tizio un altro minimo di peso 1 di 20 più 14 più 1 di 4 primo attacco l'ho preso i danni sono vediamo subito andiamo sono 18 danni ok 18 no? si secondo attacco l'ho preso sono 20 danni ok terzo attacco ok l'ho preso sono 16 danni morto crolla l'ultimo attacco che mi resta perché se non sbaglio ne ho fatti 3 yes mi sposterò verso Nictarion essendoci davanti a questo punto avendo già fatto gli altri attacchi prova a sferrarne uno anche a lui ok faccio 20 critico bene ottimo ma c'è nata eh poi casola perdona mi ti richiedo con frame ma solo perché lui è un tipo diverso resistenza immunità tra danni da veleno e danni da fuoco immunità freddo fuoco fulmini ok quindi niente fuoco basta ok quindi però si piglia 2 di 8 danni da veleno è immune è immune ed avvelenato ma non è danno da veleno perfetto quindi tiro e sono 28 danni mi spiace mi spiace per un critico così però più ma no funziona per quello che deve fare non è neanche un brutto tiro una volta finito finisco il mio turno cercherò di prendere il turno con Zaranet se non intervieni tu allora aspetta che te lo sono da due cose ok allora no io intervengo ovviamente ok slinguazzata su Zaranet con azione leggendaria eeeh 22 lo hai preso Zaranet il tizio della knowledge lo hai preso si si 57 danni a Zaranet va bene e a posto ok Zaranet prende il suo turno casta un'altra magia molto poco da chierico che ha segnato casta interiorness e se la tela allora fammi solo controllare che te ne scappa del suo padrone signori è stato un piacere sempre peggio allora dove cazzo sta troppe magie please creature ok ignori tutti gli oggetti ti muovi attraverso gli oggetti te ne batti il culo ok me ne batto il culo del terreno quindi ce la faccio ok quindi Zaranet gli troverò un qualche concino a buffa per dire che è un fantasma eccolo qua può muoversi dei sui 30 feet perché l'acqua l'acqua non tangia i fantasmi credo si infatti no ecco arriverà qua così quella era la sua azione quindi ha finito però ah scusami tirerò su concentrazione perché in realtà dopo quel colpo gli save perché aveva protezione dal bene e dal male dal drago viola 1 di 20 lui aveva più 2 non è competente quindi tira soltanto più 2 ma è vicino a sider quindi tira più 5 8 fallisce perde la concentrazione sul sul buff al drago azione leggendaria mia ultima yes linguazzata sulla sacerdotessa lì eh pesi della colpita 28 sì sì tutti uno ci porta 9 danni no no super morta quante volte è morta sta poveraccia potente era un po' abbastanza e bene ok grapple ovviamente vi dico deve fare due attacchi per ammazzarla comunque sì sì infatti vedremo sai dal toccherebbe a te ok allora sono abbastanza sicuro che con questo turno finiscano gli effetti sia di wow enmity che di enlarge perché sicuramente è appazzato un minuto 10 rounds sono girato sì 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 quindi torno torno baby quindi dimensione media mi sposterò però non posso ridurrmi io quindi quando puoi ridurco subito grazie mi metto il tuo posto sarda ecco oh no ho permesso senza con qualcuno della tua taglia esatto allora io userò comunque il movimento perché c'ho freedom of movement quindi vaffanculo e mi metterò qui e userò la mia azione bonus per spostare Hunter's Mark dato che l'ultimo nacho demone su cui stava è schioppato su Nictarion e gli farò il primo attacco 29 penso di averlo colpito allora sì sono 17 più 1 di 6 sono sono 20 18 sono 24 danni ok 19 20 21 no non è vero sono 22 perché non sono capace a fare i calcoli matematici secondo attacco 27 27 più altri 18 più 1 di 6 sono altri 21 danni 21 yes ok ho usato la mia azione bonus per spostare Hunter's Mark ho fatto i miei attacchi non posso fare altro ho finito ok io ho fatto i miei leggendari perché ho fatto tre linguazzate quindi io qui chiedi ci sono a posto quindi toccherebbe a lei che viene contenuto quindi Sirius allora sarà mi ci vorrà un attimo un secondo perché se sono ancora grappled è ancora grappled Sirius lo mi sarei guardo che la lingua è lunghissima giusto poi cazzo io sì è roba è roba che viola la realtà quindi userò 5 feet per liberar me ebbè sarebbe non magical però non so se no non è magical vuol dire effetti ma ok ok quindi io posso fare fino a 25 che è qui puoi tranquillamente passare attraverso Zaranet nel caso visto che è Eterio sì bene mi sono spooky ghost quindi facciamo fino a qua quindi se aiuterò io prendi questa maledizione è così che faccio farò a questo punto me la rischieremo e faccio un dash per arrivare direttamente da lui così perlomeno è una persona in più che può prendersi almeno una sbraila prima di cadere e dal prossimo tuino posso partecipare attivamente anche io nel combattimento ok tocca a Mui quindi esatto a Mui si becca finalmente Eldon sì e non posso pararlo oh oh sai dal tu sei guarito di 31 punti ferita oh ok figo 45 anni Eldon poi caputana ok ok poi raggio sulla nostra teipaterra però tira vantaggio perché lei è no però siccome a distanza non conta l'attacco sì addirittura se lei è prona un attacco a distanza avrebbe so vantaggio con so di lei sì infatti sto pensando ora e qualche lo capisco no perché non non ha senso sì adesso facciamo quindi facciamo 10 più 18 la becca sì quindi 2 2 tac addosso ok tocca a voi dai io vado prima io tanto non ho nient'altro da fare se non gli due attacchi ti tiro un dado 4 vado subito 3 ok ti rimanendo 4 Eldon ok subito subito 3 ti rimanendo 4 Silius no tu non puoi sì attiramenti no allora aspetta ok va bene ok allora avete recuperato Silius che è fighissimo ho recuperato uno slot al massimo livello deve essere un warlock e voi avete recuperato un slot di 4 e uno di 3 ok quindi ne ho 2 ne ho 2 perché ne avevo 1 il drago viola avete dato un po' di sua magia quindi uno slot di 4 e uno di 3 giusto ok uno di 4 te e uno di 3 Eldon non 4 e 3 a testa ah ok uno slot a testa tu di 4 Eldon di 3 Silius come warlock ha preso uno slot ok allora ok 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 grazie a voi amici la mia opinione di te è così più alta di altri draghi che ho incontrato ah perché sono un drago dell'amicizia ma che cazzo vuol dire allora stai infasciando ah come fa non so come dire non rifiuterò l'amicizia di oddio della conoscenza anche fuori dai miei slot ok quindi a chi tocca allora tu hai fatto giusto o devi fare yes oddio non ricordo io ho fatto inizio round for dragon ok se vuoi vado comunque io perché userò subito il mio tiro il mio nuovo da slot di livello 4 per castarmi staggering smite quindi la spada inizia a vibrare a frequenze incredibili e speriamo che funzioni contro di lui staggering smite però vediamo un po' allora primo attacco uno naturale quindi no secondo attacco 23 quindi sono allora ti dico subito sono 21 più 1 di 6 sono 22 più altri 4 di 6 danni psichici vai sono altri 13 danni quindi sono 22 più 13 34 devi farmi un tiro salvezza su saggezza con un fallimento hai svantaggio ai tiri per colpire perfetto quindi ha svantaggio a tiri per colpire ability check e non può prendere reazioni fino alla fine del prossimo turno ok oh cazzo ok staggering smite il migliore incantesimo di smite probabilmente che esiste allora sta passando la legge si infatti poi prenderò il tuo inocchio hai un tiro salvezza con la chierica ok che cosa mi serve fare grazie difficoltà 26 saggezza ti sta mangiando dopo la chierica no suenta ok la proia la odio e che su saggezza odio questo vabbè comunque in generale non le divoro un concetto ma quando ti fai così ti andi da madonna ti butta a terra e muori si recupera 50 punti ferita oh no oh cazzo va bene vede proprio la lingua che si avvolge intorno a destra di quelle bocche che vi ho detto che ah così mentre lei è incosciente vedete che non riesce però vedete che si infatti si è mangiato il resto della forza vitale che aveva oddio si l'ha uccisa quindi slip adesso è un casino pure per me allora però non può prendere reazioni allora avendo finito quello tuino di Zelenath Zelenath esce dalla foima eterea e lancia rivivify su il monaco sul tizio della pace qui un sacco di diamanti tizio della pace era l'ultimo tizio della pace e Zarek quindi alzati e cammina e comincerà a muoversi ora ricomincia ad essere ostacolato dal terreno ma si muove di qua tocca a Eldon qui mi conviene no la zia è leggendaria come quanto ha il chierico della pace dammi solo un secondo chierico della pace ha 18 ok quindi colpito oh per la morire del cielo credo che è la terra morente sono 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 oh st te lo messo io a terra morente io si genera su nictarion io ti odio che palle serenate tipo andiamo davvero allora si beh ha imparato nictarion non vuole trovarsi 15 probabilmente quando nictarion quando nictarion ha tipo ucciso e l'ha reso morente la chierica è risultato a sua volta quindi siamo tutti molto più strati è un combattimento esaurimento questo Eldon si sposta di lato casta di vivi fai in serio si sto finendo gli slot però è veramente una cosa di esaurimento questo non è per fare male a nictarion è per fare male a nictarion tu non devevi mai sfidarmi nictarion mai questo gioco lo possiamo giocare in due nicola tu non hai capito che non si non hai capito nictarion non si può vincere la dnd ma posso comunque vincere la sessione vedremo che una volta tenuto un intero gruppo di persone fino alle 3 di notte a finire il risico ma che troia è tipo la peggio tipo voi non avete capito questo è un duello questo è guerra io e Gab siamo sono spettatori della più grande partita a scacchi allora scusatemi un secondo non posso prendere azioni bonus e quella è la mia azione in realtà è un rischio questo non lo nego di certo ma finisce il mio tuino se non prendi azioni leggendarie non ne ho più le usate due per ammazzare la chierga tocca a Zalzax e tu non puoi prendere le azioni Zalzax si arrezza di 15 feet anzi grazie sta green smite Zalzax odio quant'è cazzo di slot Zalzax ha consumato tutti gli slot alti perché ha fatto dei casini lei quindi lei di quinto ne ha un altro e quindi casterà ancora cura ferite di massa quindi sono 31 punti ferita per chiunque entro 30 feet quindi chiunque tranne purtroppo tranne i chierici di sotto purtroppo non arrivo sì non arrivo al tizio ok entro 30 feet quindi tutti quanti 31 lei guarisce di 31 più 5 36 quindi lei diventa 37 in quanto chierico della vita e lei ha finito quindi ha finito anche lo sarebbe lei ha però lei ha però non c'è tocca a sirius ok allora ho finito gli slot di livello 1 e 3 primo attacco anche 2 in realtà ecco sì una cosa importante uso la mia azione bonus lo indico ex blade curse non l'ho mai usata finora perché avevo la crea uno stiles come azione bonus ma adesso mi saiba quindi ho un altro piccolo mezzo di difesa se cerca di farmi del male ora roll 1 di 20 più 14 per il primo attacco con vanagandor più 1 di 4 grazie a bless più 1 di 4 grazie a Chris che me l'hai ricordato dovresti comunque averlo freso ma per le altre cose sarà utile ecco e faccio faccio 1 di 10 più 1 di 6 1 di 10 più 1 di 6 oh zio guardami solo un secondo allora è l'incubo di essere tornato al mix di dadi di vanagandor allora è diventato 2 di 6 grazie alla maschera e poi aggiungo il mio modificatore di carisma che è più 5 e poi aggiungo era più 8 perché ci aggiungevo tipo 3 danni necriotici o qualcosa di easy così quindi 15 danni va bene secondo attacco 23 23 lo prendeva non ricordo ok userò uno dei miei slot e ci aggiungo un eldritch smite che era 1 di 8 post damage più livello quindi 5 di 8 10 più 5 di 8 46 danni ok però l'ho finito così quindi ho fatto 46 danni e 15 danni tocca a me dai sì slinguazzata su silius ok vediamo se mi prende in caso vai ok userò la mia reazione tiro quel di 6 dal quazzo in su mi manca ok non mi ha preso ti schippa via la lingua e mezzo ah preso dall'incazzatura ti spara addosso mi sembra legittimo ti becca con più 3 ok va proprio l'overkill non sta neanche a tirassù cioè va proprio il me lo merito me lo merito 12 di 10 più 30 flashback di una fight di team privato di perché non muori 12 di 10 più 30 99 danni sono a 5 punti per porca di quella puttana Gesù Cristo vedi che tipo allunga la riguare su di me e ancora metto in mezzo una gandoy che brilla di luce la blocca con delle solite praticamente delle scintille e tutto quello che sai fare e spara vedi che si sta incazzando a morte spara anche la bocca e mi sparo di perlaggio addosso vi odio oh si si tipo Niktarion ne sono frustrato a morte si stava mangiando un dio e ora noi siamo qui a romper gli coglioni la tipo mezz'ora vai vai Niktarion per la prima volta provò un'emozione quell'emozione era il rancore quindi tocca a uno di voi due mi sa ragazzi si allora vado vado io caldon tu sei grappled no? sono grappled mi ricordo aspetta mi pareva di sì oh ma tra l'altro scusami pure la tizia lo era quindi in realtà non sarebbe potuta spostarsi nel ritirare da su a meno che non l'avesse buttata via non l'avesse buttato via il canale no l'avevo detto che si era lasciata la lingua quindi ok a posto però vado a cercare di entrambi perché dovevo scegliere quindi ok ok allora allora sarò grapple se ti ho colpito con la lingua sì perché mi ricordo che hai detto finalmente ti ho colpito quindi hai ragione sì sì hai ragione assolutamente devo fare vai tu pure i macri tanto tanto per me indifferente va bene come sono messo ho un po' di bua ma guarimi all'infinito non serve a niente sto finendo gli slot quindi è il caso di fare un po' di male sì sì perché se mi libero e poi mi colpisci di nuovo non è servito a niente quindi let's go ormai una dps run cioè arrivati a questo punto anche perché prendo un minimo di vanto per come sono riuscito a gestire un po' le cure e le surrezioni o a fanculo dei chierici ma per adesso è un loop devo rompere i do sì primo attacco critico chiedo una cosa devo fare il tiro salvezza però ricordamelo tu perché se me lo scordi oh scusa è vero spirit guardians scusa è davvero intanto il primo attacco deve ritirarlo quindi intanto dimmi dimmi cosa quanto darmi fa la spirit guardians subito 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 7 di 8 che vengono dimezzati sei passato sì sì ecco la metà di 37 che quindi sono 18 sì ritiro quell'uno 20 prende ok essendo contro di lui se ti va bene tiro tutti i dadi che giornata di tiri madonna oh questa è una battaglia da 5 attacchi quindi fai tutto sì 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 infatti purtroppo è immune al fuoco grazie a dio grazie a dio è immune al fuoco se devi dire obiettivamente io il veleno non lo raddoppierò perché sarebbe applicato il primo attacco che non è un critico quindi un solo di 8 però sono 5 attacchi quindi sono 25 danni della mia destrezza non raddoppi il bonus fisico hai ragione sì però è la destrezza applicata esatto quindi 4 attacchi li devo contare per quelli 20 hai ragione aggiungi soltanto un attacco a ogni dado esattamente 8 perché sono 2 dal duello e 12 dal più 3 della mia anima ok let's go sono 75 danni ok nezzo a eldon praticamente me lo immagino molto è proprio l'immagine classica di tipo questo tentacolo che lo sta stritolando e qualsiasi copertina di fumetto di conani in cui affronta un 6 penti in cui sta venendo stritolato e solleva la spada e ha tipo una mano con cui sta cercando di liberarsi e quant'altro sei ancora nel grapple? sono ancora nel grapple non ho fatto non ho potuto fare niente per tirarmene fuori e non ho gli slot per andare a fare cross sì sì sono ancora nel grapple con il movimento con Fiddle Moment basta bruciare 5 punti in movimento e sei fuori hai ragione sì non ti puoi ricordare per io però ste cose no scusami scusami davvero ma te lo dico perché curando tutti i chierigi ti ve lo concedo diciamo allora sì Eldon e sono dato ah maledizione a te ah ma aspetta ma tipo un bar e tipo tipo fum e fa una caffiola e si tirerà fuori sono ancora lì così ma l'azione leggendaria ti dà un'altra linguata sono libero giustamente però ho sblocato un'azione leggendaria quindi oh sì 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 cioè ci manca un'azione leggendaria 41 anni poi cazzoia ok sono 29 ok io ciao ciao io mi faccio schifo perché in realtà ho ancora un botto di punti ferita quindi io cercherò di attaccarlo quanto più possibile se posso non ho più niente per cui andare in Nova è quello il problema se posso prima che agisca Saital Zaranet farà io ti dico una cosa per correttezza io posso usare le azioni leggendarie dopo ogni personaggio quindi banalmente se faccio con Zaranet poi prima che Saital agisce agisce quello lì allora vai prima tu Saital poi vedo ok allora primo attacco 17 però qui posso tirare ha senso tirare il d4 di bless 19 non lo colpisco comunque secondo attacco 20 paladin time userò il mio ultimo smite che è uno slot di livello 1 però diventeranno comunque 4 di 8 lo aspettavo sto cazzo di 20 naturale non ce la facevo più quindi sono allora un attimo solo che vado a vedere perché a questo punto faccio tutto il tiro completo evito di esatto esatto quindi questo qua sono quindi sono 4 quindi sono 4 di roll 4 di 6 più 1 di 8 che diventano 2 di 8 più gli altri 4 diventa 6 di 8 più 7 più più 2 di 6 più altri 2 di 6 dell'huntersmark ok ok sono 42 danni dai fottuto mostro sei brutto mastardo di voi non è che eldon eh tiro salvezza saggezza classe difficoltà 26 hai il più 3 ok let's go tecnicamente saresti anche immuni a paura ma me ne sono ricordato ora vabbè vabbè tanto non è stato importante per il momento per queste cose qua 1 di 20 più 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 devi far 20 naturale oh dio beh no se difficoltà 25 ah si beve sei vai qualcosina ce l'ho perché saggezza hai preso resiliente su saggezza hai anche il bonus del proficiency si infatti io normalmente tiro più 8 diventa più 9 grazie al mio mantello che diventa più più 8 più 1 più 3 grazie a saida il di 4 no non va sui tirisalvezza ok ah ok va solo contro il popolo innommabile li avevo usati la scorsa volta quindi a posto che succede non avevi bless anche tu non va su a quanto pare non funziona non sto a correre funziona il bless funziona soltanto controllo ma non cambierebbe nulla perché però funziona solo sui tirisalvezza paura o sbaglio ah no sui tirisalvezza mi confondevo con un'altra edizione vabbè comunque tanto avresti 15 con un dado 4 ma se faccio un quazzo naturale non è quel gioco no allora Eldor sono 53 danni vado a 0 sì ma non solo ti mangia un concetto cosa succede allora finalmente tra le prossime 24 ore decidiamo cosa dimmi teniamo un dado dimmi un po' che competenze hai casto competenze nelle armature competenze nelle armi sì tutte le haib in quanto guerriero tutte le armature nello spell casting vuoi che ti dico le mie skill no e facciamo abilità in generale poi vediamo va benissimo 1 2 3 4 let's go ok 2 competenze nelle armature oh no e per cui non sai più cosa sono le armature improvvisamente questa roba che è solo cuoio è così pesante e opprimente perché questo questa canotta è stram mi sento sfuggolato mi sento sforzato e quindi ok lui ha finito le sue leggendari eh perché questa due sempre questa vi ricordo Zalzax allora sì no è meglio se con Zalzax faccio qualcosa a questo tu ok lui ha fatto sì Zalzax agita lei non fammi vedere dove cazzo sei Zalzax tu hai Healing Void dimmi che hai Healing Void ora scrivo una cosa perché è molto bella guarda fai fai quel che deve fare tanto arrivati a questi punti danni per buttarmi giù subito lì quindi farà Healing Void quindi faccio sarebbe un di 4 lei guarisce senza tirare quindi è 4 più 5 4 più 7 Eldon guarisce di 11 punti salute quindi sono a 11 punti salute ma non sai cos'è l'armatura è solo ah cos'è questa cosa è così scomodo è proprio questa massa di scaglie di Dragon forse qui rallentai me eh Illius lei guarisce di un punto ferita perché guarisce del livello della magia si sposterà giù in questa direzione a posto Illius ok fammi un tiro per colpire anche succede sì ho intenzione di attaccare ancora con Pada Gandor hop 28 figo perché? sei andato una cosa perché prima ti ho messo a ridere perché sono questi i punti attuali di Nektarion e lui ne ha 500 e ho un punto ferita dimmi com'è il death kill di Nektarion non ci voglio credere ve lo giuro infatti per quello che ho ridacchiato perché ho detto hai fatto precisamente per portarlo a 4,99 lo sapevo la mia fortuna e allora l'hai poi dato a uno ah sì il pezzo è tipo afferma Eldon immagino proprio che tipo lo stritola in questa lingua che lo azana e cade per terra la Chierica accorre per usare l'incantismo e lanciare e lui nel frattempo alle sue spalle Sidar carica lo spadone e tira questo colpo devastante e mentre è colto dall'impatto Sirius riesce a correre arriva sotto a praticamente la sua testa fa praticamente questa scivolata la falce lo aggancia praticamente per la gola e ancora citero God of War 3 quando amazziate praticamente inizio a tirare e voi vedete la come se stessi strappando la pelle dal colpo faccio lo spazio e sto solo strappando via la massa di victorio da Takodon tiro con un ultimo strattone si stacca e vi dicono la forma di Takodon che vai colla per un attimo i miei ringraziamenti Lloyd Sirius e cade per terra cade per terra e pum in una fiammata scompare e tipo scaglio in aria Nictarion che esplode in una massa di più lucine viola divertenti e così via lucine buffe sì esatto ok la scena tu tutti voi nel momento in cui Nictarion è morto avete recuperato i concetti che vi ha divorato ok ok posso dormire se è possibile quello che succede là è che tipo Zalzax si muove l'acqua così e fa la healing vuoi per tirare su quello della pace ma voglio tanto adesso non vi lascia stare questo non serve sì sì è la propria vi dico vi dico la scena no no ma tanto ti dico dai vai ditemi voi recuperate i vostri concetti vedete che il drago viola apre le ali e una luce curativa vi riporta tutti a palla sì siete curati tutti oh oh vedete vi guarda e non vi lascia neanche il tempo di parlare e fa grazie oh ma non c'è più il tempo che vuoi dire comincia a sentire che tutto comincia a tremare Nektarion è sparito anche la sua corruzione con esso e il tempio sta per collassare su tonnellate d'acqua li guarda fa non ho molto tempo per salvare questa faccia gli altri si oppongono non c'è armonia in questo mondo il mio cuocolo l'unica cosa che posso fare è fare come ha fatto Eretos in un certo senso la sua morte invece di prendere la loro vita prenderò la mia per salvare questa parte ci deve essere qualcos'altro che possiamo fare quindi con un sacerdote ti mette la mano sulla spalla e fa sì c'è qualcos'altro possiamo fare e gli dico fa cosa e gli dico l'ossignino che non siamo qua scesi per caso che cosa ascenda la sua eccellenza ci penseremo noi non non capisco abbiamo deciso tutti non illuminati di rimanere qua vede che da dietro di voi cominciano come se entrassero ma capite che è quasi come fossero dei fantasmi che entrano cioè non è che erano dietro nel nulla sono diversi illuminati cioè praticamente alcuni sono feriti probabilmente privi della battaglia ce ne sono un bel tranne quelli che sono andati nel vostro mondo quasi tutti gli illuminati sono lì con voi cosa cosa fa vedete che loro fanno possiamo salvare questo mondo questa faccia quantomeno noi abbiamo tante conoscenze non siamo il potere di un dio però possiamo fare qualcosa lei ascende a vostra eccellenza ci ha dati la vita e ci ha insegnato tante cose ma è il momento che noi passiamo dai cieli più supermi in cui non siamo stati a contatto agli avvisi più profondi figli miei è giusto così è il momento che noi diamo in cambio quello che abbiamo ricevuto e lui lui chiama il capo con un gesto di enorme riverenza e fa il vostro sacrificio non sarà dimenticato non importa che venga o meno ricordato l'importante è che le conseguenze del suo gesto proseguono e portano avanti la storia il drago si dissolve in una serie di luci vedete che uno degli illuminati li guarda e fa è ora che andiate e cominciano a posizionarsi nel tempio intanto la città di sopra un nabo è stato sconfitto bene allora questo è tutto ciò che resta a fare si beh tutti i miei rispetti per la vostra scelta vedi che Ligio senti una voce di Ligio che fa abbiamo finito Ligio praticamente dovremmo dovrei vedere tipo se il drago viola è da qualche parte dobbiamo parlare ciò cosa abbiamo abbiamo risolto quel palastita che c'è qui guarda lì sei Ligio non ci ha fatto totani cosa cosa diamo è un totani è tipo è tipo un calamaro è tipo un pollo ma di mare si gira e sta guidando al vuoto dove vagamente nel suo ciaivello percepisce la direzione di Ligio e si gira su Seidal e un po' è un po' è un po' scroll faccio un'oculata quindi siete pronti ad andare non non so se c'è un altro se dobbiamo parlare col drago viola o qualcosa del genere suppongo si è fatto la scarsa suppongo che siamo pronti ad andare Eldon si gira vei scorre tutti vei dei quattro chierici con cui ha servito Zarek Zephyra Zalzax e Zaranet fa un profondo inchino molto bene si siamo siamo pronti ad andare e sparite flash forward voi questa cosa non la sapete ovviamente perché è un flash forward ma comunque sapete quello che è accaduto dopo poi vi dirò quindi leggete ma è così nei tempi antichi quando il grande drago era prigioniero nelle profondità marine vittima di un possente demone i tre eroi delle leggende scesero nella loro seconda fatica a liberarlo un grande combattimento contro quell'essere che aveva preso possesso del grande drago delle leggende grandi battaglie furono demoni vennero evocati forze oscure vedete questi disegni tipo con strani demoni demoni dalle strani aspetti entità che sono di cui nessuno parla e l'ombra cangiante cambiò di nuovo forma nessuno cosa disse è il grande eroe della possanza e il nostro più grande leggendario eroe del trio degli eroi delle leggende combatterono tre giorni e tre notti una battaglia infinita accompagnati da alcuni dei più antichi e saggi della nostra gente vede tra disegni noti posti e quando alla fine la battaglia finì il nostro signore fu libero le nostre terre che prima erano state tante lontane cominciarono a scendere placidamente in quello che è noto come il mar dei draghi lentamente il nostro popolo che era sempre stato distante che non si era mai voluto mischiare mai toccare terra vedete proprio il disegno no tocco terra per la prima volta non solo tocco terra la sua stessa città diventarono terra le nubi su cui viaggiavano diventarono terra le candide spiagge che ancora adesso vediamo sono un ricordo di quell'epoca vedete praticamente si sposta la telecamera e c'è un anziano drag-tier che guarda con questo proprio vecchio lo vedete con queste quasi rughe con queste rughette agli occhi così via con una lunga tunica e tanti piccoli drag-tieri intorno con questa luce un po' bozzata e così via e fa grande fu il sacrificio di quelli che un tempo erano i più grandi saggi della nostra gente o essi decisero di dormire in fondo agli oceani di fondere la loro anima stessa con le nostre terre e il concilio imperituro che ancora adesso ci protegge dall'alto dei cieli dove pensiamo stiano insieme al nostro signore dove ci guardano e ci tutelano e noi ogni giorno viviamo non nella loro giudizio sotto il loro giudizio ma per essere degni anche noi di quello che fecero di quello che diedero perché ricordatevi sempre la testa può stare anche alta le idee possono anche essere molto alte ma bisogna sempre stare un po' con i piedi a terra bisogna sempre ricordarsi che a ogni gesto di gentilezza corrisponde un gesto anche di comprensione del mondo dovete capire che a ogni perdono corrisponde anche un'eventuale giustizia questo fu importante per la nostra gente perché imparammo che la saggezza e la conoscenza non erano niente se poi ci si isolava da chiunque ed è per questo piccoli che noi siamo qua a celebrare questo momento e vedete questi piccoli sì 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 perché oggi è il giorno in cui ricordiamo la discesa come la chiamiamo il momento più sacro del nostro popolo e vedete uno fa io io tipo ieri ho tirato una palla di fango e fa è una bella cosa però mi sono tanto divertito ma hai fatto male a qualcuno fa no mi sono divertito anch'io quindi bravi è così che noi ricordiamo è così che noi viviamo e ora per celebrare nel modo migliore possibile la discesa vedete che praticamente fa come potrei negarvi dopo tutta questa lezione siete anche stati bravi avete ascoltato tutto fa e vedete che fuori un sacchetto e tira fuori praticamente da questo c'è un sacco abbastanza grosso fa come dimenticare di celebrare questa cosa nell'unico modo che ci è stato tramandato nei ricordi e da fuori questa specie di cosa triangolo con dentro un ripieno no ed ecco a voi a tutti voi un bel taco ricordate quello che ha snude molti maestro vedete così via fa e poi c'è un bambino che tira un cuccioletto mentre mangia questo taco non sono proprio uguali ai taco che uno si immagina un po' più triangolato sono proprio simili ai triangoli va bene va bene una tortiglia qui accanto con qualcosa sono passati secoli chissà cosa ne ho capito vedi che ti potete e il nonno nonno fa che c'è che c'è fa vorrei sentire altre storie dei tre eroi e il nonno fa piccolo vedi non c'è problema stasera dopo cena dopo che mi veste già tutti insieme vi racconterò un'altra delle grandi fatiche dei grandi eroi oh nonno 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 e come si come si chiama perché sono curioso ma quindi poi tipo l'ombra cangiante il guariero della forza e tipo il nostro il grande campione fa cosa affrontare una volta dopo questa storia vi piacerà lasciate che vi racconti della legge del più forte e quindi voi tornate a a Castel Delirio siete abbastanza malconciati io io voglio solo dire tipo ah un bel taco ma è un po' diverso e tira fuori un burrito vedi il legge fa come va ehi legge sono accadute un po' di cose tutto bene qui abbiamo salvato il male dei draghi tipo c'è un'isola dentro un continente non so come si chiamano un cosa eh tipo quando è atterrata la roba non so adesso non è che scienza perfetta a queste robe il mondo è abbastanza in bacca volete tipo un broccolo mangerò qualcosa volentieri è un broccolo crudo grazie senti il ligio un limone metal come niente è pieno di vitamine quindi fa piuttosto bere ha tipo un sapore che sembra tipo dolce ma no non è dolce credo sia il termine sia aspro però ragamente di dolore ti stavo dicendo abbiamo scoperto che abbiamo scoperto che il sardal il sardal della confederazione della supremazia draconica ha invaso tipo il nostro mondo si è vero si sa qualcosa possiamo metterci in contatto cosa sta succedendo non ho idea c'è modo di sentire Aleph diamine siamo qui per aiutare ma le nostre case sono in pericolo è un po' complicato in che senso e qualcuno se l'è presa abbastanza male di quello che stiamo facendo quindi ci sono un po' di problemi uno di questi è sardal nel vostro mondo per tutto il casino che hanno combinato e poi gli altri che avevo detto mi stai dicendo che qualcuno lo ha mandato apposta per i vendicarsi di questo si ci sono anche delle copie di voi ve l'ho detto si 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 le copie lo ricordo scusa forse mi è sfuggito qualche dettaglio mi sembra che mi l'hanno usata in altri modi ok non posso contattare Aleph in questo momento mi ha proprio mandato l'out out cioè non posso ok possiamo in qualche modo contattare il nostro mondo quantomeno per spiegare no e vedete proprio le vostre spalle un tizio è vissuto come un idiota ha degli occhiali solo al chiuso delle scarpe col tacco e dei cappelli un po' alza una faccia un po' da una persona abbastanza antipatica oddio tu chi cazzo sei adesso mio nome cos'è sei un sei un collega di Aleph si lo sono questa è la risposta corretta io ho capito e dove stiamo di qua voi tre a sputare sulla mia opera questo l'hai fatto tu e solo tu hai poteri contro di voi mortali aspetta aspetta un attimo mi accodo Eldon sei tu e la causa di questo mondo la causa? si con causa intendi è mio e il merito? non è merito non è il termine che utilizzerei casto good badly prendo prendo una bottiglia di latte al cioccolato dalla mia tasca dimensionale e gliela butto addosso questo è piano e pilo pero dannato bastardo vedi che praticamente quando la lanci tipo non sai perché il colpo era preciso ma cioè non è che gli passa attraverso e dietro poi cade non l'ha attraversato non sai che è successo non hai visto cazzo non sono una divinità sono un po' migliore di loro concedetemelo non è uno stand molto alto questo posto lo dimostra questo posto fa scherzo questo posto è arte è poesia è un'opera geniale sei divinità che a un momento si disprezzano tra di loro uniti insieme per costruire un qualcosa che nessuno mi ha visto prima incredibile credo che un pezzo di me l'abbiano visto di me seppai il sole scusate scusate sei idiota per caso come una volpe cosa non credo che tu sappia cosa vuol dire idiota se hai risposto in questo io le metafore non le imparo è un insulto però immagino che non ci arrivi un insulto di un essere inferiore come te non mi sto a vintare neanche cosa sei tu un goblin non mi ricordo sto a vintare tutte le cose che fatica sigma tanto per dirvi che avete scazzato durissimo che il vostro mondo ne pagherà le conseguenze fine tutti i giorni ok testa di cazzo allora ok fai mi un secondo per il favore insulti e insulti e va bene voi insultate io non ho detto nulla ho una domanda due domande la prima il fatto che si paghino conseguenze per questa cosa è una cosa sulle caite c'è una burocrazia da quello che ho capito una burocrazia da falliti una burocrazia che avrebbe condannato anche la tua opera dite si esatto quindi è una burocrazia inferiore incapace di comprendere il genio quindi letteralmente la tua opera dite era destinata a sparire così com'era esatto quindi perché cercare di impedirlo è male per te vedi che ti guarda puntalite e fa meglio meglio distrutta che rovinata o una la seconda domanda è un po' più semplice perché sul mondo cubico c'è una faccia su una delle facce guarda e fa è la mia faccia o questo spiega così tante cose grazie a cazzo che creme cose dal tipo che la gestiva e non si gira guardando e non si gira guardando l'orizzonte lontano la vaga vedi il sole che fa una volta vedi la sagoma del naso giuro prima che me ne vado andrò personalmente a terra a formare quella stronzata beh quindi siamo d'accordo abbiamo diciamo che adesso la piantate qua venite tornate al vostro mondo e siamo tutti contenti no si proprio così basta che toini a casa e poi sicuramente ce ne anzulemo e fatica vi riporto il vostro mondo se volete non vorrete già insomma c'è un bel genocidio in corso c'è un genocidio in coiso qui ne sono già successi moriranno questa roba che a voi non riguarda il no cioè alla fine vabbè sì ci sono un po' cioè non è che adesso gli elfi sono stati perupirlo la stessa roba gli immortali non contano tanto vai a fight i foto sei sei una persona terribile e terribilmente sciocca abbiamo un lavoro da fare qui e abbiamo intenzione di farlo e tu non farai un bel niente per impedircelo io non posso impiegare ve lo vietato dalle leggi non possiamo interagire con voi così facilmente altrimenti ve li hai già cancellati posso rendere il vostro lavoro più ostico questo sì ho un'ultima domanda vuoi impedire che il tuo lavoro venga rovinato preferisci che venga distrutto certo c'è un progetto dietro che voi non capite un piano geniale quindi non viene rovinato se un nari il signore del sangue devasta la regione del mare dei draghi ma sono mortali dettagli ma cambi rimedial ma secondo voi mi interessa qualcosa di queste ammassie di carbonio che si muovono sulla mia opera d'arte secondo te io mi preoccupo di degli stronzi elfi inutili o degli idioti di saruncertole con le scaglie con le ali non so neanche cosa siano è una cazzatura sono parassiti che questi sei idioti hanno messo sul mio mondo per sentirsi migliori di me e non si strofina le dita sulla fronte sai cosa hai ragione parliamone faccia a faccia togliti le zeppe così siamo alla stessa altezza fa ridere perché sei basso anche queste sono arte non capisci ho un'ultima domanda cose questo mondo è stato invaso da parassiti i colori mancavano dalla tua stessa faccia anche quello non importava non sono così fondamentali alla fine sì prima parassiti ma ciò sentivo mi sembrava ma poi sono fatti non sono problemi ho messo i sei tizi qua hanno fallito nel loro lavoro avete fatto bene a seccare eretos bravo sei poi è arrivato quello stronzo là a prendere il suo posto e poi lo sostenerò quindi tu hai creato un mondo che reputi un'incredibile io ho creato un'opera d'arte tu hai creato un'opera d'arte su cui sei perché ne sto parlando con te io sono io il proprietario hai creato un mondo in cui su una metà mancano i colori però va bene comunque non è così grave hai riunito degli dèi che si stanno massacriando a vicenda ed erano sulla strada per i suicidarsi non è così grave la popolazione l'intera faccia di questo lo sai che sulla tua faccia della faccia del pianeta stava venendo corrosa da paludi e acido anche quello non è importante cosi sono così vanesi hai messo la tua faccia sulla faccia del pianeta vedo che tu lo sia quello è perché è giusto riconoscere il genio che ha creato questa opera incredibile voi immaginate quanti idioti fanno un mondo sferico quanti idioti invece un mondo pubico io non so neanche io in questo momento non sono neanche capace ad arrabbiarmi sei troppo idiota non ho mai non ho mai io è la prima volta che ho a che fare con dei di persona e con entità sovradimensionali o come cazzo vi chiamate ma tu tu sei una delle creature più stupide idiote incompetenti cialtrone bestie che abbia mai visto compresi immortali se avessi la possibilità di staccarti la testa di netto non lo farei perché vorrei prenderti prima a calci hai finito con il tuo piccolo sfogo no anzi ti dirò di più faremo in modo di risolvere i tuoi errori da idiota questo mondo diventerà decente e notizia flash il nostro sopravviverà perché a differenza di questo non è stato costruito da un rincoglionito ma il vostro mondo sopravviverà ma i vostri parenti non conosci la gente che abita da noi allora non mi dedico a troppe mortali in più se le nostre brutte copie sono anche roba che hai creato te beh direi che abbiamo delle buone possibilità non ci ha creato non ci ha creato lui lo se lo portate qua ma visto che siete così convinti io vi ho detto vi ho offerto una ramoscello d'olivo una possibilità del vostro mondo a salvarlo a dare una mano e invece voi come delle bestie egoiste prive di qualsiasi rispetto per quello che voi amate o dite di amare preferite rimanere qua a fare quel che vi pare va bene vorrei dire che sono sono ferito ma non lo so in realtà perché essere così infimi non posso darmi fastidio dall'altro canto se voi ve ne andaste di vostra spontanea volontà vi rimanderemo il vostro mondo che insomma i gas che hanno costruito Sardale e la sua gente comunque nei fan di morti eh lascio di nuovo a voi la scelta è l'ultima opzione sulla tavola che voi dite sì o no non mi interessano tutte le parole bla 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 stufano le mie geniali orecchie sì o no ne abbiamo già parlato sigma come volete scaccare le dita come faceva Aleph no? e non succede nulla allora visto che volete tanto rimanere nel mio mondo convinti di essere migliori ma ho pensato di aumentare un po' la difficoltà cosa diamine hai fatto a questo mondo? vedete che vi guarda e fa non vi preoccupate e lentamente si risolve lo scoperete molto bene per questo è l'assicurante lo sto avendo flashback di quando un drago ha tentato di bullizzarmi vedete vedete che praticamente Elisio vi guarda chi era quello? sigma uno dei degli alti papaveri dell'omniverso adorabile uno anche molto createvole veramente ha l'autorità o il permesso per fare qualcosa come condurre un'invasione a casa nostra? non l'ha proprio fatto così ho ben capito ha fatto una serie di mastruzzi tecnicamente Alef ha mandato voi tre qua e lui ha mandato tre di voi qua il suo diritto il problema è che nel momento in cui è un po' come con Bagos cioè nel senso lui non può prendere un campione e portarlo qua ha autorizzato il trasferimento di Sardal e lui ha chiesto educatamente a Tiamat se è possibile e Tiamat ti ha detto boh che ne so io non so bene cosa abbiamo fatto però probabilmente è stato lui a insinuare a Tiamat che c'era la possibilità di vendicare credo che ce l'abbia con voi se l'ultima volta l'abbio preso a calci un suo avatar ola quindi te lo fai scontato gradite una murena? no oh 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 quello era assolutamente vile da roba è scontato che se anche ci mettessimo in contatto con Aleph riuscissimo a farlo avrebbe già abbastanza sotto banco da non poter fai denotare i trucchetti di Sigma giusto? mettiamola così noi qua siamo un po' siamo sotto banco da tutto ok allora l'unico modo per risolvere questa cosa è ripulire questo posto il prima possibile così possiamo sistemarlo onestamente ovviamente non posso dire di essere ne dietro faranno del male alle persone di questo mondo e ci renderanno il lavoro più difficile allo stesso modo una parte di me è intrigata dall'idea di incontrare questo Severus Gravestone in circostanze noi mali non avrei mai potuto incontrarlo e prenderlo a calci e invece adesso si posso letteralmente affrontare la versione peggiore di me in un certo senso lo trovo apprezzabile sarà quanto meno interessante vedere cosa abbiamo di sbagliato nel cervello che poteva andare peggio Ligio un'ultima domanda e mi rendo conto che questo va al di fuori delle tue immediate competenze quindi ti prego di avvisarmi se sembra che stia insistendo o facendo pressioni non c'è nulla che possiamo fare per portare qualcosa a casa ok Eldon si passa tanto la mano annuisce non posso lasciare un pianeta nel mezzo di qualcosa che va oltre il genocidio in mezzo tra le mani di un megaromane ma spero che vada tutto bene vedete che arriva Mestergatto e fa salve Mestergatto Mestergatto che sta succedendo è una lunga storia Mestergatto finalmente che sei tornato che ho bisogno di un buon bagno caldo nessuno ha sprimacciato il mio cuscino in questo periodo è terribile è settino di peli ovunque non capisco perché stavo pensando di preparare la cena a dire il vero è un'ottima soluzione io gradirei vedi che ci prende lo storione carne al massimo lo ignorerò carne impegnativa lo storione cosa diavolo è uno storione è un grosso credo sia un grosso pesce non c'è il nome mi guarda vi vedo un po' preoccupati posso essere di supporto non lo so mi dispiace che i miei ospiti siano a disagio in casa mia vedi casa nostra è molto lontana da qui abbiamo saputo che sta venendo invasa ma indicevole decisamente persone che entrano nella tua proprietà senza il tuo premesso e la trattano come loro orribile increscioso e finalmente quando Eldon ha detto casa nostra ha pensato finalmente ci è arrivato sì no Eldon è abbastanza preoccupato che vabbè non mi interessa ma va soltanto non possiamo andarcene finché non abbiamo risolto la faccenda con le divinità e parassiti vi ringrazio è giustamente corretto anche perché insomma la mia fortezza qua potrebbe essere un momento all'altro quindi ottimo lavoro credo che l'idea migliore credo che l'idea migliore sia non pensaici più è vero non ho dubbi che qualcuno come Seidal possa causare gravi danni soprattutto persone con quel genere di pensiero ma io mi fido di Siliastra non ho dubbi che Vilfania Minos e gli altri riusciranno a trovare un modo per spingere lì quindi è un problema per voi noi siamo preoccupati per la nostra gente capisco perfettamente la vostra condizione anche perché trovo che quando uno ha una proprietà sua per questa sia importante averla per dire io quando sono arrivato qua nella mia fortezza mi sono trovato a mio agio poi siete arrivati voi non mi date fastidio come ho già sottolineato siete anche abbastanza silenziosi a parte il signor Eldon che dovrebbe tenerla aperta la porta di camera ogni volta scardinarla è un problema però tu cosa hai fatto wow intendo dire comunque che capisco le vostre difficoltà cioè alla fine vorrei dirvi che mi ricordo quando ero più gioia ma non credo di esserlo mai stato Eldon Corle molto rapidamente per un attimo visto nella direzione della sua stanza dannazione scusse la porta è collata qui c'è tornare in questo modo non mi darebbe non penso che sia corretto voi siete i miei ospiti quindi mi spiacerebbe fosse a disagio anche perché il signor Silvio qua comunque cucina abbastanza bene molto disponibile certo potrei dare una mano in cambio di un favore che tipo di aiuto e che tipo di favore posso contattare alcuni miei colleghi nel vostro mondo ah sono ancora presenti il concetto di animali e creature specifiche guarda quasi signor Eldon scusate ma perché quando il vostro dio ha creato la vostra gente poi è morto oh no scusi scusami sei gatto guarda come per dire mi hai appeggiato scusi che cazzata che sciocca suola alza la mano sono ancora nuova questa cosa uno dei nostri dei è morto un suo frammento si è fuso ma era un dio morrevelmente umano non conta ok i capostipiti sono altre cose se volete posso contattare il mio collega del vostro mondo e saremmo molto grati qual è il prezzo beh guarda ovviamente il prezzo da pagare è ovvio signori se vedi che praticamente si avvicina a voi fa gira la testa queste orecchie non si gratteranno di certo da solo gli faccio un grattino dietro l'orecchio Eldon si girò un attimo questo è excited che piacere come ho detto mi piacciono i gatti terribile oh oh con queste zanpe artigliate anche il signor Eldon dovrebbe impegnarsi però un po' di più perché io sto cercando aiutare tutti ma qua nessuno aiuta me si ferma Eldon si ferma so chiude gli occhi spero che questo sottovoce ma tipo non è che sia il proprio segreto è più privato per il tono se questo aiuto è soltanto tipo una caitolino o qualche cazzata del genere ci saranno problemi vedi che ti guarda quasi incazzato però tipo offeso ma quello offeso risentiva fa signor Eldon non sono mica una volpe no è vero se ti fosse fidato il capostipede delle volpi sarebbe stato abbastanza certo ovviamente anche i gatti sono famosi però insomma siamo abbastanza gentili come specie rispetto alla squallida e stupida volpe animale incredibile si mette due tane ma chi se ne frega cioè non hanno mica una fortezza bella come la mia capostipede delle volpi vedi che vedi che con una certa spocchiarela capolire volpi mica una fortezza bella così dove sta lui schifo guarda la fortezza con un certo orgoglio fa questa è una tana non è un altro che mi voglio scardinarla a porto però intendo dire c'è tipo una bug impression mezzo tipo sto parlando tipo ah ma non come gli altri capostipidi o come la capo di bismuto di alba è soltanto figlio di putta siamo sopravvisuti un po' e comunque un gatto è vero che un gatto è ingannatore non lo negherò mai ma siamo anche comunque amici qua e poi mancar di rispetto ai miei ospiti voi mi offrite servizi voi mi date cose sarebbe totalmente disgustoso che io essendo il vostro padrone di casa mancassi alla parola data ricordatevi sempre un gatto mente soltanto quando sta mentendo lei è una creatura molto onorevole messer gatto la ringrazio molto bene quindi si posso aiutarvi penso che il mio scappo stesso sarà dormendo di solito dormiamo non mi stupirebbe nelle propondità della tela c'è soltanto questo enorme però adesso vedi che fa con le zampette mesi in piedi è l'ora di mangiare sì sì però signor Eldon hanno ancora avuto i miei grattini sulle orecchie arrivo dannazione arrivo vedi signor Eldon vedi il momento che la fa una colpe non accetterebbe i grattini sulle orecchie la fregherebbe la pugnerebbe le spalle suppongo di no più esperienza con i cani ah conoscevo il capostipite dei cani mi piace mi piace immaginare come tipo io ho più esperienza con i cani ah è quel tipo di persona come va con giudizio a lei è tipo di persona se lo devo considerare i miei volti bene 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 per rifare ora possiamo avviarci a fare un bel una bella mangiata un bel pisolino che vedo belli stanchi non sono state giornate facili mentre vi parla così fa adesso siamo due di più tranquilli no vedi che si gira affatti raggiungo un vaso fa questo non va bene immagino che imparerò a cucitare lo storione oggi esattamente sì questo è questo lo spirito giusto vedetevi guarda stava rovinando il feng shui Eldon si gira solo su Ligio Ligio una domanda è puramente pregestione non avendo ucciso nessuna divinità che credo sia una cosa buona abbiamo trovato scintillere della creazione in qualche forma devi un po' capire però sì credo di sì devo capire come funziona ok è una cosa nuova anche per te mi pare di aver capito fino a un po' di tempo fa ero un tizio che c'è a scoppiare soli immagino che in questo caso il trovare qualcosa dal non avrei fatto scoppiare un dio sia comunque un'altra meccanica devo capire come funziona perché sono molto bravo a far scoppiare le cose a capire come scoppiare c'era un pianeta una volta dove erano tutti lì hanno fatto scoppiare tutto il pianeta è stato molto bello è scappato un'astronave una volta oh no ah non c'è sì poi tutto quel pianeta è diventato una roccia verdata è stato un buon lavoro ma fino a un certo punto che diamine è un'astronave è tipo ha presente una nave sì è una nave che va negli astri che lazza di dove andare nello spazio stessa roba quel concetto lì eldon sigilo scusate per la domanda eldon sigilo sono messo serious ed è tipo l'hai completamente improvvisata questa cosa ho tirato a indovinare c'era questa cosa c'era un bel sole rosso gigante io volevo far scoppiare quel sole lì mi hanno detto di no fai scoppiare il pianeta c'è un progetto sul lungo periodo l'iso adesso non mi chiamavo l'iso all'epoca ovviamente però si deve capirci no no certo Alice proprio mi ricordo quel giorno lì fu una rottura di coglioni mi dice no lì gli occhi no è bello il sole rosso ok lo capisco lì ma non farlo scoppiare fai scoppiare il pianeta che io ho tutto un piano capito e quindi vabbè ma perché devi far scoppiare non ti preoccupare fa perché ho un'idea in testa che vedrai che secondo me tra un po' facciamo i soldi la roba c'era un bambino non mi ricordo che universo era però era molto interessante poi poi l'ho avuto quello universo è sempre stato ve lo dico quello universo di un casino un casino prima c'era multiverso poi non c'erano più poi ci ha messo una stronzata del tempo fluido poi l'hanno rimesso a posto e una volta fatto quello ce n'erano 52 poi li ha ricompressi che poi ha messo un'altra una roba ma se mi ha occupato sigma di quel multiverso non ho capito ci ha messo un muro intorno io non so che dirvi ci ha messo un muro intorno e capito così poi c'era una tizia poi c'era un altro tizio poi c'era uno che si chiamava monitor e guardo un po' che fantasia l'altro anti monitor cioè nel senso non era un progetto molto ambizioso le sue cose le sue idee poi c'è tutta l'energia è una roba mi sembra tutto molto confuso poi il Fadef è così stanco quello è uno dei multiversi c'è un altro che non abbiamo ancora capito quanti sono i mondi sono solo che il mondo centrale non è il numero uno ma il 616 una roba perché? guardate poi se sono i tentativi che gli sono voluti poi fai lo giusto tre persone ogni multiverso poi le sue regole ce ne sono alcuni che sono soltanto dei mondi paralleli tipo quello che dicevo prima ce ne sono altri che ogni scelta si genera un'altra realtà oddio cioè quelle robe da Aleph ok io le cose le faccio scoppiare però in quel multiverso che dicevo c'era un tizio che mi piaceva era tipo uno con delle con costume delle corde così che tipo andava lì faceva scoppiare i pianeti li mangiava una roba così poi quest'arma che era nullificatore assoluta era una buona idea mi piaceva quel tizio non so che fine abbia fatto si chiama Galatina una roba così ce lo tue terremamente però non è potente come me lo dico è un apposto diciamo andiamo che ne dici se andiamo a mangiare Ligio io credo di aver bisogno di mangiare e di dormire per almeno 36 ore visto visto che ho tenuto i miei slot tipo questa è proprio tipo la scena da quel piccolo pezzo di slice of life di tipo mezzo minuto mi sistemo è ora di scoprire di che pasta sei fatto tipo questo grosso storione davanti alzo le mani mi compare Magaduno in mano mi compare tipo un grembione e un cappello in testa e inizio e tipo alzo la falce faccio per colpire e tipo si feima così il frame e poi ci sarà l'episodio in spiaggia bisogna sempre no obbligatoriamente failo ok sfumata c'è una paluta dei vagni è quasi come una spiaggia non credo sfumata al nero due scene e poi chiudiamo prima scena faccia del mondo la tua camera si sposta la faccia dei vulcani piena di vulcani che ruttano così via la faccia dove cittaglia gravesto lontananza una grossa fortezza di pietra grezza ok immaginate quelle grosse fortezze quasi barbariche no montate assieme e vedete due sembrano ogre con questi occhi luminosi dorati che guardano questo uomo e rifanno sua eccellenza gravestone a niente ditemi siamo riusciti a ottenere quello ci hai chiesto oh bene è stato più facile di quello che credessi fa sono morti molti dei nostri soldati per ottenerlo sai che roba fa alla fine sono morti per la causa giusta la causa di gravestone l'unica via quindi comunque ora non sono morti sono eroi fa si è vero questa eccellenza vedo un seguito di dubbio nei tuoi occhi forse hai bisogno di un altro trattamento vedete che inizia a streggere la mano al tizio come se non sia la testa va bene comunque dicevamo e fa questa eccellenza gravestone si è successo qualcosa mentre poco tempo mentre portavamo mentre fa che cosa è successo ditemi fa a un certo punto un enorme essere è apparso sarà stato grande come una montagna non credo ma l'avrei visto con i miei doni no fa non so vostra eccellenza gravestone è qualcosa di preoccupante di enorme di ah fa sai che roba abbatteremo anche lui nulla può fermare la vera fede la via l'unica via quella di gravestone non lo so vostra eccellenza siamo tutti molto preoccupati hai messo in dubbio la mia fede vedi che se ho credito gli scoppia la testa oddio santissimo madonna l'altro fa ha fatto bene questa eccellenza lo so e vedi che non diamo quel tizio maledetto cattivo di one piece vedi che praticamente in lontananza mentre la telecamera si sposta qualcosa si muove ed è molto 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 grande si avvicina e vediamo questo gigantesco essere fatto di roccia di carne gigantesco e vediamo un tizio basso che lo guarda ti ho svegliato per questo so che dormivi dovevi riposare sta faccia ma chi se ne frega ci sono dei tizi che rompono i coglioni ho chiamato uno dei loro amici ma voglio rubare il nostro progetto lo capisci quasi lo guarda io io si bravo so che sei lento come la roccia bla 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 se pensavo che almeno mettete qua avrebbe lasciato questo posto tranquillo tu tanto non capisci un cazzo fa io io fa chi so delle persone fa si te l'ho detto dieci minuti fa ormai che fatica fa devi eliminarle hai capito quando arriveranno qua devi schiacciarle fa delle persone fa si te l'ho detto prima ci sono delle persone qua fa si sono qua devi schiacciarle qua schiacciarle fa si dio mio che divinità idiota ho ficcato qua dentro mi sembrava che andasse bene perché eri una batteria ma ho dovuto toglierti da qua spero che questa faccia sopravviva persone schiacciare si si persone da schiacciare mi inizia a sollevare una mano non io idiota idiota si ora ovviamente senza l'idea che dormi questa faccia che è totalmente a livello tettonico instabile potrebbe lievemente collassarti ho usato come un tappo non so se è presente e ho dovuto toglierti da qua capito per quegli idioti pensavo che gravis non sarebbe bastato ma credo che non bastasse sono più forte di quello che pensassi schiacciare si schiacciare e dovrai farlo perché se non ti muoverai in tempo questa faccia diventerà soltanto un oceano di lava e tutta la tua gente morirà con essa schiacciare bravo vedo che c'è seconda scena non voglio fargli male considera che questo è più grosso di Godzilla come dimensioni è proprio un Kaiju di quelli domanda quale Godzilla fai conto che è grande come una montagna ah ok è molto grande la risposta è crono di God of War 2 cazzo o sei anche un po' più grosso eh ma buon culo non credo possiate a batterlo sappiatelo comunque è un mosfali incredibile si no potrebbe essere grosso come crono si che va la fortezza quello che va la fortezza sulla schiena si o al livello ok seconda scena Casta Rubino Sigastra Nido del non mi confondo Nido Celeste Nido Celeste mi chiamo Nido del Cielo ma perché Nido Celeste scusami la situazione è abbastanza drammatica ci sono state molti morti la Baronessa è lì dobbiamo arrenderci non c'è altra soluzione Eldon non c'è io sono bravo nella politica ma non si vede con chi parla sono bravo nella politica ma non sono come mio marito Nido Celeste tiene botta e Sigastra credo le informazioni sono sempre molto ambigue la Sigastra una situazione veramente drammatica hanno fatto molto molto male a tante persone non credo ce la faremo reggere ora è tanto che fosse qui lui è sempre stato il nostro eroe e ora non c'è e io non credo di farcela e sto qua a parlare con te che non puoi darmi una risposta vedete che non è una crisi di nervi è più uno sfogo uno sfogo non isterico ma vedete che davanti a lei c'è un gatto non so che fare non credo che tu sia la mia risposta a dire il vero a darle la risposta chi sei tu vedete che c'è un altro gatto a dire il vero sì ci potrebbe essere una soluzione fa mi manda coso lì Eldon fa Eldon fa sì sì è in un posto tipo sta a dire il vero vabbè è ospite di un mio amico quindi non è un ospite devo dire la verità il mio amico mi ha detto certo dagli una mano perché prima si tolgono meglio è quindi cioè nel senso non è per mancare il rispetto però uno va a casa degli altri dopo un ospite come il pesce dopo tre giorni puzza quindi se stanno lì ancora a scroccare a fare cose cioè non capisco sì sì non si preoccupi Milady o cose così fa è una roba più che suo marito è un gran maleducato ecco mettiamo in questo modo ma non è un grave fa beh Eldon è sempre stato un pochino particolare fa sì è uno stronzo ho detto questo odio i gatti nel senso mi ha chiesto il mio amico di darle una mano fa ma lei chi è ho il mio nome dove è messa il gatto di questo mondo non lo dica in giro che sennò poi dov'è Adofus e il suo fottuto lightning bolt quando mi sai Adofus vedi che fa sì ma sei un gatto fa no il gatto che è un po' diverso ci starei a chiarirlo non come quel è bello è bello quello lì per alzò il gattino sì sì ho capito non stavo insultandoti ok parla se non ci vuoi niente farlo con i gatti basta sperarsi prendere siamo gente in gamba noi comunque allora so che avete un po' di problemi mi hanno detto io dovrei fare delle cose siamo letteralmente invasi sì sì vabbè sono 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 dei cosi non è nulla di grave fa no fa è è passata da un'emozione di depressione fallimento e rassegnazione terribile a un delirio e fa non credo che dei gatti potranno aiutarci ooo lei non crede in me no non credo che dei gatti non possono tenere testa un'intera armata di di assassini non so neanche cosa sia hanno fatto fuori metà esercito fa ma poi sai che roba come come fa allora dunque avete bisogno di nostro aiuto e però io chiederò delle cose in cambio ovviamente fa lo sapevo questa è l'ora più bassa va bene per salvare il mio popolo sono disposto a questo e l'altro sono disposto a darvi la mia anima fa che cosa me ne faccio la tua anima fa sono disposto a darti tutte le mie regni fa è già tutto mio fa qua cioè non è che puoi darmi roba mia cioè nel senso fa eh fa sì sì poi ne parliamo fa quindi tecnicamente allora bisogna di fa un grattino fa un bel bicchiere di una tazza di latte fresco parzialmente scremato se possibile perché purtroppo ho una certa età fa o eoni quindi dopo un po' di eoni fa fa sì sì va bene così e adesso intanto preoccupiamoci dell'esercito da nemico fa non credo sia possibile battere l'esercito da nemico vedete che si mette alla finestra il gatto fa puf sai che roba fa eh cosa vedete che fa sono lucertole i gatti sono abituati dalla cassa delle lucertole non ci vuole tanto questi perdono la coda fa non credo neanche la sì sì vabbè poi ci pensiamo fa ok 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 fa mh 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 vedete che guarda al cielo fa mh 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 la situazione un po' così fa sono un po' tanti fa poi quelle cose lì che puzzano mi danno un po' fastidio fa vabbè poi pieno di questi queste verdure che girano intorno al loro campo non ho ben capito vabbè comunque vedi che fa ok 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 è il momento di chiamare un po' di gente e lei fa eh no non capisco fa non ti preoccupare bellezza tu l'importante è che dai dei gratini qua e mi dai una ciotola di latte fa anche qua ci penso io ho messo il gatto di questo mondo non dirlo all'altro che poi così noi ti riportiamo il tuo marito a casa e siamo tutti contenti che lì staranno per i coglioni la roba io santo io stai in me ne ho questi fonti ma quando sono arrivato comunque ho cambiato un botto di roba l'ultima volta che quando uno si addormenta capite si addormenta qua in questo mondo e poi tipo era tutto un continente unico e poi dopo sono già sparsi fa cosa fa sì sì no un pisolino vabbè comunque non mi piace quando la gente mette a posto le cose in casa mia senza chiedermi permesso fa comunque mi piace tutto spostato vabbè non mi addormento io avevo messo avevo sepolto una preda non mi ricordo cioè ci sono ancora i monti del visibilio vale fa cose fa vabbè capito l'erosione poi le stranzate lì comunque allora allora benissimo al momento di chiamare la mia gente fa vedete la baronessa che non capisce cioè poveraccia la telecamera si sposta e vediamo l'accampamento dei soldati della confederazione draconica hanno diverse persone in schiavitù picche con soprateste umane diversi pirupiru morti di puttana quando vedete che fa è la fine di Castel Rubino mi sa non si fa anche senza vostra eccellenza vediamo l'abbiamo fatto ormai si arrenderanno perché sono così facili gli umani così semplici all'ultimo assalto non reggeranno e sentite praticamente fa ma signore si pensa di si sai quale la differenza tra i ratti e gli umani gli umani sono più facili da sterminare esattamente sentite un miagolio il tizio cos'è sta è una serie di molto grossi però molto intensi un rumore nel campamento cosa sta succedendo cosa e vedete che c'è messergatto davanti al tizio salve cosa sei messergatto fa è una storia lunga dovreste per favore andarmi fa mammifero cosa vuoi fa oh no sei quel tipo di persona oh no pessimo 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 fa vedete che il tenente fa eh vabbè ve ne andate fa non abbiamo nessuna intenzione di andarcene gatto no vabbè messerà gatto per favore lo trovo anche un po' razzista specista definirmi in questo modo cioè ci sono tanti gatti ma io sono il capo stripide dei gatti fa non so cosa sei schifezza vedi che gli tira gli tira una scarpata il gatto si sposta un po' più veloce per favore è così potente e lui fa stupido essere sei venuto qua a sfidare la potenza della confederazione laconica sai che roba il mio più forte il mio più forte cosa eh ti amate arrivata qua l'hanno già presa calci in culo una volta se vuoi capire ci voglia molto a battervi cioè voi così la spada ti devi permettere di fare così la nostra signora quella lì è un drago sai che roba cioè non è un gatto poi c'è cinque teste non ho capito che schifo ma cosa io mi doresti vedi che io ti ammazzerò fa eh tante ne ho nove di vite però il discorso è ve ne andate perché io qua a casa mia non mi piace che siano le lucertole hai capito perché questa è roba mia hai capito come si è usato a chiamare ah beh lucertole gechi che cazzo siete lo sapete solo voi cioè sicuramente non c'è avete le scaglie la coda boh cioè tipo blaterate potete togliervi dalle palle lui fa forse non ti è chiaro vedi che carica il culo fa no 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 forse non ti è chiaro a te come dite dalle vostre parti gli umani e i topi a differenza qual è che sono più facili da sterminare i topi non è che sto attuginando con tutta sta soglia dell'attenzione il problema sai qual è lo guardo lo vedete quasi con un gigno malefico come il gatto di il cishiket no è che non ho mai sentito la lucertola che fa fuori gli umani ma sapete chi fa fuori le lucertole e vedete uno sguardo terribile gli occhi fa quelli della mia specie e vede che di fianco al tizio appaiono due tigri da dente sciapola cosa fa e la gente non capisce mai che si messer gatto ma noi siamo i capostipiti dei felini tutti quindi cioè gatto perché è comodo che cazzo si prenderebbe una tigra dente sciapola in casa ma idea di quanti felini ci sono in questo mondo gigante dai tempi del passato io ho acceso tutti gli archivi ci sono un po' togli appuppati in giro per il campo buona fortuna non sono i capostipiti dei gatti sono i capostipiti dei felini mi avevano buttati un po' per il campo vuole avere un altro dio santo gli ha riempito il campo di enormi i leoni delle caverne della pre-storia grossi come orsi si vedete proprio da te caso ci sono questi enormi felini primitivi primordiali più che altro si perché loro non sono i capostipiti dei gatti comunque si vede che questo è un messergatto che ha vissuto molto di più si è proprio rotto i coglioni nella vita si non c'è più sbaglio ma l'altro invece tipo si ma poi vabbè hanno il loro carattere e poi c'è tipo seconda scena ce ne sono tre vi dico la verità seconda scena nido celeste la situazione è in stallo da un po' tanto tempo perché sì allora mettiamola così Sardal rispetto a Castel Rubino rispetto a Sigliastra Sardal nido celeste dipende meno da Sardal sì perché è più militarizzata perché in realtà nido celeste è costruita per essere molto cioè mentre Castel Rubino è il posto degli avventurieri è il posto bello così via nido celeste non dico che è come la confederazione della supremazia draconica però l'impostazione di Sardal e Sardal comunque va in quella direzione ok sì diciamo che nido celeste è la federazione del drago è la prussia la confederazione draconica è quell'altra Germania che non citeremo non parliamo mai esatto siamo qua a livello lì quindi comunque riescono un po' di più a reggere anche per via della conformazione della zona per via della migliorizzazione con i compagni agandanti però l'avvantaggio di Sardal è che Sardal penso che la convenzione di Ginevra sia un elenco di suggerimenti e la situazione è molto messa male e vedete praticamente il concilio fa possiamo arrenderci ovviamente eh no però la situazione è molto drammatica sono morte diverse cose covate è quello che non possiamo fare diversamente dobbiamo tenere testa fino a che l'Orsardal non arriverà ci è stato detto che è stato maledetto ed è da qualche parte in questo continente siete seri che ti scuri di questa cosa fa le informazioni non girano facilmente forse è per questo che è sparito fanno sì probabilmente per questo anche se Bamut l'ha preso con sé chissà quelle missioni starà facendo e Bamut è silente la presenza di Tiamat ha bloccato le comunicazioni i nostri chierici non riescono più a fare niente non ce la faremo lo sapete è vero no non è detto che non ce la faremo però è molto probabile ma però possiamo fare una sola cosa e si guardano fa che cosa fa morire con onore portandoli il più possibile con noi è quello che vorrebbe l'Orsardal è vero beh sì cioè sicuramente ci chiederebbe di non morire però il discorso è quel si vanno fa va bene così sia prepariamo l'ultima carica sì è l'unica soluzione vedete che si allontano quando dalle ove una mano si poggia sulla spalla del generale del vice di Sarda e c'è questo tizio con queste lunghe ali verettile molto più allungato di un dragonide e voi chi siete? c'è perché mi presenti il mio nome è Sarellis lieto di far la vostra conoscenza mi manda l'Orsardal e ti chiedono chi si allunga fa è ancora vivo? e dov'è? fa una lunga storia e vi chiedo scusa se ora non posso permettermi di spiegarvela ci vorrà un po' di tempo e fa chi ci dice vede che te la fa il ciondolo il Sarda sì 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 fatelo a sua moglie lo riconoscerà e vedete che altri dractie appaiono in fianco a lui no? ma dovresti tapparsi fatele trasporto non è complicato fa cosa? fa sì siamo venuti a darvi una mano l'Orsardal e fa ma io non non so come vedete la confusione in crisi occhi vedete che appare un dragonide dalle scaglie rosse e quello chi è? con un'armatura della confederazione della supermazza draconica il mio nome cronta c'è sei dei loro fa non più vede che porta al collo un ciondolo ha un drago viola sbalzato non suona più uno fa ho capito ma possiamo darvi una mano vedi che Sraelis fa siamo abbastanza potenti per poter tenere testa al loro esercito e cambiare le sorti in tavola e gli fa sì ma come faremo a batterli cioè hanno più cose di noi sono più preparati vedi contare che gli mette una mano sulla spada e fa lo faremo con la più grande arma che qualsiasi essere sentita a disposizione e ti ha stretto il ciondolo e fa la conoscenza e su questo sfumiamo al nero terza scena c'è un posto dove praticamente la situazione anche a segnastra non è messa soprattutto per via dei problemi che ho avuto cioè sicuramente ha tenuto più testa ma tutte allora le coincidenze buttate fuori da Alef hanno fatto prendere tempo quello sì ma non potendo intervenire direttamente comunque la confederazione è abituata a combattere sigliastra no tanto che come vi ho detto è stata mandata una sfida a quello che vi ricordo quello sì ma non è ancora giunto quel momento ok perché le mura stanno cedendo credo ovunque il concilio è ancora bloccato vi ricordo per la sfida Duel perché non sanno chi mandare si è appresentata questa figura l'ultima volta se vi ricordate no? sì tipo leon vedizzaro che erano i goblin esatto che hanno dato una mano e il concilio non sapeva ancora chi scegliere se vi ricordate sì sì ok vedete che non ce la fanno vedete abbiamo scegliato un campione ma in realtà questo ha creato molti dissidi dentro sigliastra perché il problema non è tanto le tensioni interne quanto il fatto che questi sono abituati a combattere il loro campione è abituato a combattere i campioni di sigliastra no un minotauro perderebbe un goblin perderebbe non sanno cosa fare e vedete che c'è Vilfagna che è lì concilio a pezzi è una situazione drammatica proprio drammatica intanto i bombardamenti continuano l'ordminos fa le vermura non reggeranno ancora devo mandargli un campione e Vilfagna fa non so chi scegliere qualsiasi campione perderebbe e questo ha creato abbiamo perso più tempo a decidere il campione che a preparare strategie e io lo so vi chiedo scusa le di sigliastra che e le di Vilfagna è che non è facile lo so che non è facile è sobria Vilfagna vorrei tanto vorrei tanto che Silius fosse qui e tutti fanno si lui ci ha liberati ci ha dato che sia fin anche quando sono venute le altre le altre specie a darci una mano ci hanno aiutato certo ci hanno dato tempo ma Silius era un simbolo vedi che fa Vilfagna no? è un simbolo che non vedo l'ordminos che le stringe una mano sulla spalla e le fa i bisogni finiscono vero? si si abbassa con la testa bassa tutti con la testa bassa che sentite nella città ormai c'è una depressione terribile tutti hanno capito che è finito alcuni pezzi di pareti crollano mentre i colpi si fanno sempre più intensi tutti si sono arresi gli astra ma in questa questa triste giornata la città paradossalmente non è mai stata così unita vediamo persone che di varie specie che si abbracciano che si tengono strette ogre che tengono vari coboldi tra le braccia no? quasi difenderli magari alcuni ogre con le frecce piantate nella schiena troll che goffamente cercano di dare una mano con le loro lunghe braccia portano al sicuro persone intanto ormai il sogno è finito c'è più niente da fare se gli astra cadrà che giorno terribile tanne che per una figura perché vedete che mentre tutti si arrendono ormai non è che sono arreso sono rassegnati non c'è rassegnazione un piccolo goblin gira e fa signore signore devo darmi una mano che succede fa figliolo vedete sono illiti di qualcosa fa non ti preoccupare figliolo finirà presto fa non credo finirà presto finirà presto figliolo vai vai signore vai signore fa vedete tipo una 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 droga qualcosa che è lì che sta parlando con qualcuno che fa che vuoi ragazzino fa piola piola fa non è ancora finita e le fa piccolo goblin fa ne ho viste tante di vite scorrere durante la mia vita fa è finita ormai hanno vinto fa cosa non parlavo di quello scusa è finita cosa fa c'è una guerra là fuori fa ma non so poi fa ero impegnato a fare altro fa vieni con me signora ma sarà un goblin di 3-4 anni che perciò è equivalente a un bambino di 8 della nostra no fa vieni signora fa cosa perché ti spiego per il fa è che tu ti scordate le cose e fa anche se fa è quasi il tramonto si quasi il tramonto ma certo un'altra parete un altro pezzo di muro corolla il tramonto fa tanti quanti qua non ho capito perché piangete perché state male è stata è stata una settimana intensa lo so so proprio fa certo è stata la settimana intensa come tutte le settimane ogni settimana intensa come insegna l'orsilius un giorno speciale oggi venerdì un altro pezzo di parete che crolla sì sì ho capito fa ma io non capisco oggi è venerdì fa sì è venerdì ho capito e nessuno sta rispettando la tradizione di sigliastro vedete che fai tanto ma io voglio il mio taco e lei fa non credo che sia il caso fa cioè perché è un solo taco in città e fa perché non abbiamo più risorse fa sì non c'è più niente è finita no ma non è finita e fa sì è finita non è finita il taco fa no intendo dire piccolo goblin vai vai in casa tua un po' sarà tutto davvero finito fa sta tramontando il sole fa sì lo so e lui dà il taco e le fa non c'è nessun taco non ci saranno più taco figliolo perché il goblin la guarda basta i piedi ma non va mica bene e fa non è il momento fa fa il venerdì del taco un giorno è un sacro e sai cosa succede quando uno non rispetta il venerdì del taco fa tipo tollare la parete niente l'orsiglius ha sempre detto chi non rispetta il venerdì del taco viene punito e le fa e l'orsiglius ogni tanto ha delle tradizioni ha delle idee un po' bizarre o intanto non avete idea di che cosa lui sappia ma non credo è finita vai a dormire piccolo goblin finirebbe in soletta fa no fa perché chi non rispetta il venerdì del taco la parete che crolla basta per essere più esattamente pulito e le fa va bene va bene prendi un braccio signora e le fa eccoti qua fa ecco vedi guarda fa cosa la parete non crolla più cosa sta succedendo e si sentono delle urla delle urla di massacro avete giocato con il fuoco è una voce dall'accampamento mentre un enorme puzza dovrebbe essere di zolfo ma quasi più di brace avvolge mentre enormi nebbie di fumo nero piccante cosa sta succedendo non lo so ma sta eccellenza ha aperto un portale non ho capito cosa stia capitando che osa violare la santità del giorno del taco cosa e vedete che dal fumo vola fuori un draconide con la schiena spezzata intanto che io sarò qui fin tanto che l'orsilius garantirà questo giorno io sarò suo custode io sono stato nell'altro mondo e lo sarò anche in questo avanti perché i nibi si alzano cioè taco donne il taco demone in una forma gigantesca molto diversa da quella che sim si è in grado di evocare senza offesa con un misero slot dammi tempo voi avete violato la santità di questo enorme giorno vedete altri vedete diversi nacholot che girano da accampamento è il momento della punizione questa è la storia per cui nessun attacco nessun attacco si riastra per il resto della storia della sua storia so che a vivere mai più di una settimana e vedete che tipo l'elfa oscura un attimo di sasso non ti ha questa voce e mi fa te l'avevo detto e nell'accampamento nella sala del trono vilfagna allora quello che diceva l'orsilius era vero e tutti fanno effettivamente ma un demone non può entrare in questa dimensione così non è possibile per quanto a vivere è una forma potentissima com'è possibile che sia successo non capisco e di fianco si rifagna qualcuno che mastica un taco allora come va no 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 vedi che bisogna che apre gli occhi ma maestra sono venuta qua sono venuta qua perché mi hanno detto che c'era un taco cioè non è che me ne ha proprio detto ho pensato cioè insomma era una roba più tipo così la mia casa è venuta qua è però c'è un taco me lo prenderei volentieri mi è so eccellente vedi che vilfagna tipo si inginocchia babayagob con la fronte tocca il pavimento hai perso qualcosa vostra eccellenza sto portandole rispetto a chi a lei e tu ti guarda cos'è se non avete idea di cosa abbiamo davanti è un goblin vestito male lo sciamano questa è la potentissima e leggendaria babayagob oh no io non pensavo di stesse eccomi qua mi piacciono i taco siccome però non c'erano ho detto ne ne bocherò un taco cioè quando ero da qua non c'era niente ho detto e poi tipo un tizio mi è arrivato fa guarda che qua è sto il venerdì del taco e io ho detto vabbè allora ne bocherò qualcosa e un tizio fa posso venire io se vuoi allora vieni anche tu cioè tanto siamo tutti qua mani da un taco e questo là è in mezzo l'accampamento che mangiano le persone non è molto chiaro alla testa è una forma di tipo un panino però cioè nel senso ma su cellenza ma hai evocato l'elta con no cioè non è che l'ho evocato le circostanze erano buone gli ho aperto la porta con l'entrato e nella sua forma che non sia l'avatar credo sia tipo la forma primordiale e roba così adesso non è che sono qua a studiare comunque stai indendo va bene sono suprematisti zaconici ho neanche ho portato un pezzo di inferno qua però non sono convinta cioè non è funzionale che è una scienza perfetta fa tecnicamente vostra eccellenza mi ha segnato che immaginano quello che fa quel giorno ero stanco e dopo una di taco e mi piacciono molto tutti i taco che vuoi se ce l'è tutti i taco che vuoi fa bello bello mi piace avete un rosso vedete un rosso fa quale spizzi poco e fa l'ultima volta era verde vabbè cambia colore ogni tanto nome colore aspetto suoni odore e sapore comunque diceva ma noi siamo qua a dar una mano a tutti fa e vedete che praticamente mentre tutto questo capita tutto questo fa dalle pareti da una finestra arriva sono venuto a sfidare il campione visto che vi siete mandati i vostri demoni schifosi fa chiudiamolo qua una volta per tutte e vedi gli altri l'orminos che tira fuori la sua spada fa avanti fa stupida goblin sono qua venuto a sfidare il campione di questa gente perché hanno mandato le loro forze scure contro di noi ma appena avremo vinto eh lord minos tu la rispetterai la parola fa si vedi lord minos che ti ha la sua spada fa ovviamente la parola di un minotauro è tutto per un minotauro fa se ci sconfiggerai prenderò io il carico di silviato di mie spalle però io cosa fa cos'è sta roba fa è un duello tra campioni fa perché chi vince prende tutto ah figo posso partecipare anche io fa è un duello a due funziona così fa non capisco è un duello a due le fa si è un duello a due ma mi fagna fa fate la rabbia si è un duello a due vostra eccellenza uno e l'altro fa ma io voglio partecipare non può vogliamo muoverci togli questa vecchia goblin del cazzo e vedi dai no non ho capito di chi parla parla di te e le fa no ma io vorrei partecipare non può partecipare bisogna essere in due e fa ah vabbè qual è il problema mi punta un dito verso il campione di draconico e si integra ora siamo in due ora siamo a posto vedete tutti che si siano nelle vene in tutta la stanza e Lord Minos fa quindi riservando ok dovrei affrontare lei fa perché cosa e il duello fa chi si è a posto Minos si è a posto e vedi e vedi tipo non ho capito tipo lì dietro le trovate tipo vi fa vi fa te siete tutti c'era un tizio qua che fine ha fatto sembrava uno simpatico fa vedi fa vostra eccellenza fa si vuole un taco oh sono venuto qua per questo che delizia e su questo terminiamo oh mio dio oh Baba Yagob salvat lui c'è da l'arco ho tutto taco don kaiju oh cosa io non non ho né le skill né il tempo per fare la magnitudine che mi immagino ma ho solo in mente questa scena di questo tacco don metà del corpo che si tira fuori da questo poi tale con i draconidi che guardano astonity e tutta tolino queste sagome gialle volanti tutta tolino come che voiti che hanno tolino a questa cosa perché c'è un punto che Sigma non ha tenuto in considerazione ebbene di Ale può modificare coincidenze come aveva già detto che la casa di Babbiar si muove a casa quindi Ale ha molta perdizione su dove finisce oh mio dio che chi ha trattato di letteralmente l'interroff Ale anche perché porca puttana c'è invaso una fottuta casa almeno Ale può cercare di stareci dietro eh lui fa qualche po' però si è molto bella la scena con Babbiar poi che soia io mi mani allibita inchinatemi inchinatemi io non ho voluto interrompere anche perché l'ho fatto già prima per l'eroe chiedo scusa ma rimane suonato eh venerdì del tacco e tipo anche quelli gli altri che lo vedono tipo dal concilio che lo guardano l'ibiti mi immagino che lo insilius dicesse la verità e mi immagino lo psicologo e lì quindi e ora mi sento un cretino perché tipo me lo immagino che tipo noi non esiste un fantasma del tacco fai e quindi la situazione è cambiata anche per un po'